buonasera buonasera ciao amici di anime click siamo qui questa sera per parlare come al solito il mercoledì sera parliamo soprattutto di manga entriamo nel mondo cartaceo giapponesi sì abbiamo promesso in in chat che raggiungimento dei dieci euro di donazioni questa sera cristiano canterà la sigla di haidi in falsetto e vi aggiungo a testa in giù capovolto e come vabbè dai calcos'altro mentre mentre ballo con la pizza in mano a 15 euro invece zero stasera non c'è perché aveva un impegno ci sarà la prossima volta comunque in settimana sicuramente zero quanto manca zero 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 non c'è zero non c'è andato via stasera parleremo di un tema diciamo più o meno caro a tutti cioè il costo dei manga la nostra domanda è i manga costano troppo costano tanto e la risposta evidentemente sì quindi per questo oggi abbiamo finito la sigla ci vediamo alla prossima ragazzi della prossima ragazzi ciao scherzo abbiamo perso abbiamo perso 2000 follower con questa con questa mostra evidentemente sì sono troppi soldi spendiamo troppi soldi costano troppo in manga sono veramente che poi non è la cavolata veramente sì sì effettivamente è vero comunque gigio già ti danno del genio in chat eccezionale e ho lanciato la sigla per una volta che riesco a lanciare la sigla giusta ma se volessi spendere i punti canale per un cuore di crisi come fo me lo sbloccate chiediamo ad alessandro perché 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 cosa buona è giusta sì facile per gigio il suo mercato dire ho perso tutti ho perso il regno ci ho venduto 18 regni chiedi ad ac94 chiede ad alex ilian che dovrebbe gestire lui la l'impostazione delle ricompense e buonasera a uomo lore e buonasera ho visto prima che si è unito a noi sammi cesc sammi cesc allora torniamo all'argomento a parte le stupitate della della dell'introduzione sul discorso del costo dei manga abbiamo visto che negli ultimi anni o che diciamo in maniera anche obiettiva i manga sono aumentati di prezzo sono aumentati anche i formati sono aumentati il lusso che appunto accompagna ogni singola uscita di questi manga più o meno è non 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 qualsiasi manga però in generale sì abbiamo richiesto noi appassionati negli anni edizioni porno lusso edizioni fighe con gli adattamenti gli sbrilluccichini gadget eccetera eccetera gli editori ci hanno accontentato con sovracoperte pagine belle di anche volumoni da collezione eccetera eccetera e chiaramente la diciamo la controindicazione di tutto questo è stato l'aumento del prezzo pensare anche soltanto a dieci anni fa e non torno indietro come come direbbe un buon boomer ai miei tempi e cose del genere però anche tanto negli ultimi dieci anni era quasi impensabile vedere manga seriali a 20 euro a volume abbiamo visto con un wolf in cab l'abbiamo visto con akira che uscirà a breve lo diciamo vicino ci avviciniamo con banana fish sto dicendo ti manga di panini però diciamo che se il volume è unico 20 euro uno li spende nel senso che 20 euro ci può anche stare quando però la manga diventa seriale e ci si trova questi questi prezzi ma anche 10 euro anche 12 euro anche 15 euro diventa qualcosa assolutamente impegnativo e assurdo quindi eh non so cosa ne pensate voi dopo ho visto ci sono state alcune domande sul sito e alcune anche riflessioni sul sito e vorrei approfondire non sto frankie il il prezzo è una di quelle cose che ti frena nell'acquisto immagino eh direi proprio di sì perché poi io non seguo tante serie eh i tnusa non filtrata ah 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 stai scaduto inspegato il masso la la famosissima tnusa non filtrata ma no è ora che pubblicità che pubblicità fanno no assolutamente ha tolto pure l'etichetta allora diciamo che il prezzo sì mi frena abbastanza facciamo un esempio banana fish no rimanendo su sull'attuale io avevo appena visto l'anime mi era piaciuto però non al punto da spendere 18 euro al volume sinceramente fosse stato un'edizione a 10 ma guarda 10 12 ero anche mi era piaciuto volevo vedere come era in formato vanga e quindi magari ci avrei fatto un pensierino a 18 euro sinceramente non lo so è una spesa che penso sempre potrei comprare tre manga al posto suo ho visto l'anime c'è una cosa che frena poi ora sta uscendo akira quant'è 22 euro 2 euro per 6 però la mia domanda la mia domanda anche frank anche questa sia anche frank è l'acqua che fa effetto la se banana fish cioè noi sappiamo 10 volumi 18 euro 180 euro questo è il costo di della nuova edizione di banana fish mettiamo il caso che panini avesse fatto 20 volumi più a metà del prezzo meno porno lusso e gli avesse fatti pagare 6 euro quindi 120 euro ti saresti arrabbiato con panini perché l'edizione non era porno lusso sarei stato contento perché era più alla portata io sarei stato molto contento perché era molto più alla mia portata cioè a me l'edizione porno lusso piace sì però diciamo che quello che conta per me alla fine della storia cioè non dico che voglio un'edizione pezzente con le pagine che si scollano diciamo che io mi sarei accontentato tranquillamente di l'edizione a 6 euro per 20 volumi che è molto più dilazionata è anche una cosa psicologica e poi alla fine se ci pensi il prezzo totale non è proprio il banana fish è bello grosso bello ciccione quindi magari poi il prezzo totale a fine serie non è nemmeno così alto perché poi di mezzo il numero di volumi però sono sempre 18 euro tutti insieme per una cosa secondo me psicologica che è arrivato in diciamo nel frattempo esempio questo non è che sia proprio porno lusso banana fish hai ragione banana fish è stata tanto criticata però dobbiamo comunque abituarci un po tutti al fatto che questa è una linea editoriale che non coinvolgerà soltanto banana fish ha già coinvolto akira coinvolto l'immortale per fortuna per fortuna in maniera relativa full metal alchemist sarà meno costosa sembra tipo hanno sparato 12 euro 13 euro a volume hanno detto ragazzi panini credo che nel 90 e passa per cento dei casi riediterà breve 20 century boys premete riediterà monster premete riediterà altri titoli di urasawa così come maria per esempio è uscito blame cioè uscirà blame cioè alla fine strada facendo qualche nuova riedizione ci sarà è vero forse per 20 centri poi si spendono per scendere però è quello che fa veramente una grande da una grande preoccupazione il fatto che magari la linea editoriale di panini in termini di prezzi venga poi ricalcata anche da altri da altri editori cioè jpop è ancora un editore relativamente giovane per rieditare i propri grandi titoli car comics lo fai per il momento tiene i prezzi bassi bassi ecco in linea contenuti in linea con il numero di pagine perché alla fine dobbiamo sempre può fare quello di paragone il formato e il numero di pagine contenute sì ci sta ecco anche l'onwulfen cap fighissima è ma secondo me non li vale 22 euro volume parlo perché l'ho acquistato io ce l'ho qui non faccio vedere che guarda io dirò secondo me 22 euro volume vale nel box non mi faccio vedere il box però è un tomone esagerato c'è nel senso questo è veramente che c'è veramente non so quante pagine sono fare il paragone adesso questo numero esatto di pagine è un libro quello ragazzi voglio dire beh consideriamo che i cari più o meno per un volume di queste dimensioni un pochino più grande per gandiroshi ma chiede quasi 40 euro e quindi tre volumi tre volumi uno dice ok lo vede quante pagine era perché c'è un indice e siamo sulle quasi 700 pagine 700 pagine 2 euro il che vuol dire che saremmo a circa 5 5 6 euro per un volume cioè in proporzione su un volume normale sono 5 euro 5 6 euro che è più o meno il prezzo standard del tipo dell'attacco dei giganti per il numero di pagine l'un wolf and cub costa il giusto e oltretutto anche un'edizione che è enorme cioè vi prendo un detective conan per un manga che ho qui di fianco perché c'è un pianca una libreria c'è le dimensioni scompare guarda c'è faccio vedere c'è è grande proprio come formato se lo mangia se lo mangia proprio però chiaramente questo questa proporzione viene meno per esempio con banana fish che costa 18 euro e a un terzo delle pagine di lone wolf però un terzo la metà però questa proporzione difficile da fare per gli appassionati perché tu guardi il discorso finale la fine è sì ma è un fatto sì pure nel livello psicologico vedi questi 18 euro 20 euro sì al numero di pagine poi pensi dopo perché poi sicuramente in questo caso magari veramente il volume è enorme veramente quindi ci sta pure diciamo che leggere in treno è impossibile ecco per esempio anche questo paragone qui akira sarà 350 pagine e 22 euro ecco aspetto di vedere l'edizione perché spero almeno che sia figa perché dalle immagini che sono viste panini ho detto ma ho detto ma perché assomiglia tantissimo l'akira collection che c'è stata di dinit come quella di dinit no però di qual'era sempre di panini oddio con cosa mi sto confondendo non so con cosa ti stai confondendo però però ecco è discorso che appunto sono sono volumoni enormi anche quelli di akira bisogna capire un po la qualità anche se ci sarà sovracoperta se le pagine saranno decenti perché quelle di lone wolf sono molto frivole ecco adesso andando ad analizzare un pochino le domande che ci hanno fatto anche sul sito adesso qui devo scusatemi ma devo mutare un secondo il sito perché altrimenti si sente doppio doppio sonoro dice su collecting manga bisogna avere spazio per un manga così un po come per la colossal edition di attack on titan secondo me infatti nemmeno c'entra no ma l'ha già detto credo che non c'entra no anche l'attacco dei giganti io mi aspetto grandi sorprese mi aspetto grandi sorprese quando finirà cioè nel senso che non lo fanno una perfect edition lo faranno eccetera eccetera bisogna poi capire anche cosa intende fare proprio panini anche vabbè quei diritti li do per scontato che siano di panini presenti in eterno però se li lasciano a qualcuno io ho la prima o la prima edizione quella quella classica e non sono passato alla colossal proprio per per quel motivo perché mi aspetto che prima o dopo quando sarà concluso ci sarà perfetto una perfect edition l'acquisto compulsivo che porta molti a leggere forse la metà di quello che comprano per un collezionismo insensato nel momento in cui non se ne fruisce questo è un motivo del rincaro dei prezzi cioè tanta gente che compra gli editori sono convinti che le vendite vado vado bene in realtà è gente soprattutto che collezione senza leggere e questo comunque l'abbiamo visto anche in diversi c'è anche personaggi del web no che hanno le librerie piene ma leggono poco è un po un problema che ci sta cioè non solo che ne pensate più ma dal punto di vista dal punto di vista dei degli editori poi vendono veramente cioè non è che loro vanno a vedere se poi tu lo leggi per loro le vendite sono alte quindi per loro ben vengano i collezionisti così però certo io personalmente cerco di io compro poco però quello che compro leggo tutto anzi non vedo l'ora di leggerlo ho sempre letto tutto l'unica cosa più che altro perché sono soldi sprecati se non ti metti no ma non è questione di soldi sprecati cristiano c'è che certe volte soprattutto qui manca di panini non vorrei tornare su panini però magari lo si compra per dire prima che si esaurisca lo tengo lì ma poi si cumula 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 quando arriva a un certo punto e poi a un certo punto finisce che si comincia ad acquistare a tenere lì dicendo sì prima o dopo lo comprerò non so però se questo viene fatto anche con i manga da 10 euro ok cioè io posso capire un manga cioè non tutti almeno quando quando ho spacchettato i pacchi qui in live live l'ho detto per esempio io ho comprato card cap card captor sakura clear card senza averlo letto cioè non sono proprio 67 volumi non l'ho ancora letto nemmeno primo volume vergogna ma lo leggerò c'è nel senso è l'unico è forse uno dei pochissimi a sua memoria che ho per esempio non non leggo mai in manga che esce una volta ogni ogni due anni perché obiettivamente non mi ricordo quello che è successo prima e allora dico vabbè mi fermo un attimo lo stoppo e poi ne leggerò tra quattro volumi tutti insieme però di base questi sono effetti collaterali del tuo pacco enorme che devi fare non suona molto bene quello che hai appena detto ho come il presentimento che il pacco di febbraio sarà anche più grosso anzi i pacchi di febbraio sarà anche più grosso ragazzi lo sapete che non suona molto bene quello che state dicendo vero oh allora se la chat me lo chiede io faccio vedere il pacco eh no 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 dopo le undici dopo le undici si può fare no poi un'altra riflessione anche che facciano sempre sul sito i commenti sui social agli annunci qui si sta rispondendo sul perché i manga costano tanto eh i commenti sui social agli annunci di nuove pubblicazioni dove di solito si chiede quando arriverà un'altra cosa ancora perché non ci basta mai anche quello un po' è vero no sì è molto vero cioè io questo me ne sono accorto quando sto nello staff di anime click prima non ci facevo caso però adesso che vedi gli annunci e vedi gente che all'annuncio vuole l'altro annuncio come è successo a quei poveri quando hanno fatto il logo no i poverini stavano facendo cioè hanno che poi è una cosa poi è anche abbastanza importante in un'azienda il cambio di logo sì ma ci devi annunciare quello e poi una settimana fa avevano appena annunciato i due c'è una setticcia praticamente ogni cioè i grandi editori annunciano sempre un manga al mese praticamente più una ventina decina lucca e io ricordo il messaggio di uno di questi editori non faccio il nome per per rispetto eh che quando furono annunciati a lucca in manga e tutti dicevano sotto eh volevo questo volevo questo no delusione perché io speravo questo ci ha scritto dicendo ma cosa vuole la gente cioè nel senso cosa vuole di più vi annuncio 25 manga e non siete contenti più tutto e comunque ricordiamolo che comunque gli editori fanno anche già un grandissimo sforzo e comunque una grande difficoltà nell'organizzazione nel mantenere la serializzazione per tutti i titoli che hanno in corso che sono sì perché forse sembra facile dall'esterno ma non è cioè non è proprio così non puoi avere un parco titoli di mille manga cioè non nessuno non è sostenibile proprio Rossellina giustamente dice ma che non ci vuole la gente che non ci sono i soldi per comprare e che poi la gente magari vuole sempre manga nuovi però poi si lamenta eh ma c'è troppa roba da comprare posso dire andato un po' no mi dissocio dissocio mi dissocio ma non che non si possa dire è solo che comunque non è molto carino da dire ma comunque quelle sono i casi che a me onestamente stupiscono di più cioè voglio dire nel momento in cui un editore ti porta tutta la roba che vuoi tu da persona quarente come minimo dovresti comprarla tutta o no eh soprattutto se vuoi altro poi se vuoi altro vuol dire che non ti basta quindi devi comprare prima tutto poi vuoi altro cioè però non mi sembra ma Asadora è già andato esaurito vedo che la gente dice che cerca Asadora è il primo volume sì esaurito ma già si sapevo ne compravo tre per rivenderli sui base no 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 ma si può dire questa cosa si può dire solo che magari non fai questa cosa qui ma lo è lui comunque dico dove l'acquisto io è disponibile 7 euro e 50 poi ma pure sempre in fumetteria dove sono andato io il primo c'era ancora eh però forse sì in effetti dipende poi da eh non so Fenderfix infatti se tu compri tutto secondo me puoi tranquillamente vi lascio il link però insomma Fenderfix se tu compri tutto allora puoi chiaramente dire sempre la tua però chiaramente non parlo di te in quel caso no beh allora Asadora andrà esaurito cioè nel senso che al 100% andrà esaurito e lo ripeto l'ho già detto anche in altre live eh quando fu annunciata Asadora la gente eh durante la diretta gridava eh stampata Asadora perché sapevano già che eh cioè si sapeva insomma cioè si sa che Asadora andrà esaurito al 100% e così sarà se avete intenzione di leggerlo compratelo come tutta la roba di Urasawa cioè tutta la roba di Urasawa fa sempre sta fine sempre letteralmente la roba di Panini un po' di successo io Banana Fish ho cominciato a leggerlo io ti parlavo anche di Billy Butt in realtà Beh Billy Butt Beh abbiamo sento Goin l'altra sera quindi spero che spero che ci tiano più informazioni al più presto Eh sì diciamo che bisogna bisogna capire lì esattamente Sono sembrato un po' fumosi però non so tu almeno hai avuto questa sensazione Beh sì dai cioè è abbastanza palese dai ma senza girarci troppo intorno Sì però lì è una situazione c'è Sì è un manga molto interessante eh non è il mio preferito eh di Deo Yamamoto ehm ho preferito Omunculus e ehm Ichi the Killer però comunque sono sono un titolo molto interessante se hai modo di recuperarlo non so se sia disponibile ma se se ce l'hai sotto mano eh è una buona lettura Nell'ultimo periodo probabilmente per la zona gialla le fumetterie della mia città veramente gli interi scaffali vuoti ho mai visto le fumetterie così pure quelle nascoste meno gettonate Sai cosa eh io faccio un lavoro che non posso dirlo perché faccio il pornatore no faccio No Mi dissocio mi dissocio Mi dissocio Praticamente eh tanti commercianti oggi hanno la grande preoccupazione di eh spendere senza sapere esattamente come sarà la situazione ehm in futuro Le fumetterie purtroppo eh hanno quel grandissimo quella grandissima diciamo così mannaia sulla testa che loro i fumetti li pagano alla consegna Cioè nel senso quando arriva al pacco la fumetteria la fumetteria anticipa i soldi e poi se vende vende e se non vende pazienza nel senso che non c'è reso come nelle vicole Per cui anche per una fumetteria investire comprando non so cento numeri di asadora perché presume che potranno vendere E' rischioso E' un rischio Cento euro cioè capite In un periodo come questo in cui comunque il commercio fa fatica capisco se ci sono alcune fumetterie che rimangono un pochino asciutte rispetto rispetto al solito Praticamente comprano quello che sono già certi di vendere Dicono che fai la spia di Spy Family Non si fa la spia a Gigio Ricordo Gigio è uno snitcher Ho letto il numero due mi ha fatto morire Sì sì Ragazzi Ragazzi Gigio è un snitcher di Myro Accademia E' lui No è il numero due ho letto in contempo Prendete uno dietro l'altro Spy Family e Yotsuba In tutti e due ci sono le bambine Le bambine ingenue divertenti E' veramente bellissimo Mi ha sorpreso Spy Family Mi basta dire la parola Yotsuba e si attiva la nostra orsellina Ho detto basta dire la parola Yotsuba e si attiva la nostra orsellina Sì perché sapevo che era qui con noi Ho detto Faccio l'appunto L'abbiamo detto anche ieri Davide98 Io sono contentissimo dell'arrivo di Noin Perché finalmente Tsutomu Takashi ricomincia ad avere un minimo di gloria in Italia Ma se non abbiamo capito male i messaggi lanciati da J-pop ci saranno Cioè J-pop ha detto che non ha preso e non editerà Noin Ma editerà Takashi Quindi arriveranno Dica tanto significa che seguirà poi le varie Io mi aspetto Detonation Island Perché era di Detonation Island penso che sia papabilissimo Vabbè è l'opera con la L maiuscola di Takashi Io ho preferito Tetsuan Girl Però quelle di Star Comics E sono completamente diversi Però ci sono Seedow C'è Jirai Shin C'è Detonation Island C'è Sky Egg E Sky Egg Karma Sono comunque tutti titoli veramente buoni Non sicuramente è stato qualcuno se l'ava facendo Perché io le cose me le dimentico Però io sono convinto che arriveranno anche le opere di Takashi Verranno seguite come state seguite Quelle di Tezuka Quelle di Moto Agio Della Ikeda Ma io sono solo che contento Perché un sacco di roba di Takashi Ovviamente vista l'età mia giovine Non l'ho potuta recuperare Quindi Cioè mi va solo che bene Anzi Ma mi va solo che bene anche per tutte le generazioni nuove Sì Che poi J-pop è ben proprio a portare tutto l'editore Sì sì no Dici Vai tu Dimmi Franky dimmi No no dicevo che poi J-pop in genere Quando poi porta un autore E poi tende a farlo abbastanza completa Come Almeno negli ultimi L'ultimo periodo Quindi sicuramente arriveranno altre opere Chris quanti anni hai? Ho 22 anni Caron Vado per i 23 Penso di essere uno degli staffer più giovani all'interno del gruppo Benvenuta a filo del discorso A benvenuto o benvenuta Ragazzi i vostri nick mi fanno morire Vi giuro Non trovo più il filo del discorso Dice Rossellina Non credo Non credo Chris No Non crede che Sì 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 lo so che non sono il più giovane Ma credo di essere uno dei più giovani Detonation Island non è Planet È No GP Era GP Ah vai quindi giustamente GP manga GP Tra l'altro lo sto rileggendo adesso Proprio perché siccome sono iper convinto che uscirà la nuova edizione Me lo leggo Me lo leggo Poi lo vendo Lo vendo Usato E mi prendo quella nuova Senza È proprio un bagarino Sei proprio un bagarino Cioè Non c'è niente da fare Sono un collezionista Azz mi passi tre anni È di più o di meno Cioè c'hai 20 anni O 26 Penso 20 Benvenuto a Il filo rosso dell'incesto Ma Mi dissocio ovviamente da questa cosa Hai un bel nick Però io mi devo dissociare dal tuo nick Allora Io lo capisco Perché quando io ho provato a registrarmi su Twitch Praticamente ogni 44 nicknames Ho provato 44 nicknames E erano già occupati Quindi ha ragione lui Nell'inventiva Sì sì Quello sicuramente non era occupato Siamo dietro a uno strano amore qua Keron Siamo dietro a uno strano amore qui Io ne ho 20 Tu ne hai 22 Di dove sei Ci troviamo Cioè basta Dai il numero Chris Chris Mi hai provato dai vi prego Non credo di essere disponibile al momento Mi dispiace Keron Non so cosa stava dicendo Alla fine di Detonation Island Che sono diventati di Planet No non lo so Non lo so No tornando al discorso Dei manga Poi leggevo Ah sì ok Ho capito Il finale intendevano loro Mi avete fatto perdere il discorso Tornando sul discorso Del costo dei manga C'è anche chi sul nostro sito Scrive che Andrebbe digitalizzato tutto Che è l'unico modo per tagliare Drasticamente tutti i costi Leggere di più E fare anche altre cose Alternative non esistono Fare altre cose Non so cosa intenda Però dico Va bene Leggere Leggere Si intende leggere Alternative non esistono Perché i prezzi sono legati alle vendite Ed è un cane Che si morde Ed è un cane che si morde la cola Posso Disfruttare tutto Non lo so Vai Chris Posso dire la mia Ragazzi Scordiamoci Che con la situazione Editoriale italiana Attuale Ci sia una digitalizzazione Di manga Perché tempo Cinque secondi I sindacati Dei fumettisti Dei fumettari Delle fumetterie E delle librie Si sono sotto Le sedi degli editori Con tanto di cartello One you Che cazzo fai Perché La differenza sostanziale Fra noi E i giapponesi Sì Sì Vai 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 Finisci il discorso La differenza sostanziale Tra noi giapponesi Che l'editore giapponese Vende direttamente al pubblico L'editore italiano Vende alle fumetterie Se una Jpop Per dire Un giorno Si sveglia e dice Facciamo un nostro catalogo online Il danno maggiore Se lo prendono le fumetterie Eh lo so Però poi se ci pensa La Jpop Che gli frega Cioè nel senso Sì Eh ecco perché ti dico Che i sindacati Dei fumettari Delle fumetterie Le librerie Si vanno a protestare Quando iTunes Si sono preoccupati Dei negozi Che vendevano cd Beh penso che Ma quella è stata Una cosa globale Qua parlo di una situazione Italiana La digitalizzazione Delle opere cartacee È globale ormai Cioè c'è in Giappone C'è negli Stati Uniti Ma in Giappone C'è una situazione editoriale Diversa Cioè come ti ho detto Sì Ma esistono già Per dire I libri Per esempio Con il Kindle Con Amazon Cioè Quanti leggono i libri Io ti parlo dei manga Ti parlo dei manga C'è nel senso Che alla fine La digitalizzazione Possiamo impegnarci A Diciamo così A rimandarla Quanto vogliamo Ma prima o poi arriverà Cioè nel senso Abbiamo fatto una live apposta No ma io dico No io dico Con la situazione editoriale Attuale Non dico che non arriverà mai Secondo me deve cambiare qualcosa A livello di meccanismo Sai qual è in realtà Chris Sì Che si addirittura Direttamente dal Giappone A proporre ai lettori italiani Il manga digitalizzato Cioè nel senso che Tradotto Eccetera eccetera Cioè che saltino proprio Tutti gli step Non so se questo accadrà mai Una supposizione anche lontana Però Secondo me le fumetterie Non moriranno Nel senso che alla fine Le fumetterie Sono una costola Delle librerie Abbiamo già visto Che le librerie Si stanno trasformando In fumetterie Le fumetterie Si stanno trasformando In librerie Anzi Diamo che sono più le librerie Che si avvicinano Alle fumetterie Anche grazie appunto Alle edizioni porno luso Per cui secondo me Non è del tutto detto Che Già chiaramente qualcuno Chiuderà Le più piccoline magari Bisogna capire esattamente Bisogna capire esattamente Come verrà proposto Il digitale Perché se sarà Allo stesso prezzo Se sarà Come diceva Frank Come no Come diceva Che era C'erano Zero E Mi ricordo chi Che dicevano Angelo scusatemi Angelo Che diceva Che Si Mari c'era la possibilità Di dire Che compravi il manga A 8 euro Esempio E all'interno Avevi non so Il codice Per il download Digità Questo Mi voglierebbe Tantissimo Questa sarebbe Un'ottima soluzione Che potrebbe coesistere Con la nostra situazione Editoriale Italiana Secondo me Altre ipotesi Si parla Per esempio Abbiamo fatto l'esempio L'abbiamo fatto anche vedere Quello di Di come fa la Marvel Negli Stati Uniti Dove tu con un abbramento Di 50 dollari annuale Sostanzialmente Vai A Parti Nel leggere i comics Datati 1950 Sì Da arrivare ad oggi Con Marvel Che fa Addirittura Incentiva Di più a leggere Digitale Magari proponendo Alcuni titoli Addirittura Prima in digitale Rispetto al cartaceo Cioè Dopo è chiaro La Marvel Gestisce L'universo Dei comics Insieme alla DC Negli Stati Uniti Però ci sono comunque Cioè Io mi aspetto Che come è stato fatto Negli Stati Uniti Visto che comunque Marvel Italia È un colosso Perché stiamo parlando Di un leader europeo Cioè Il Marvel Italia Distribuisce Praticamente i comics In mezzo a Europa Io mi aspetto Io mi aspetto Che prima o poi I panini In questo caso Prima Marvel Il passo Lo faccia Cioè nel senso Non mi aspetto Però per dirti Una cosa secondo me Indispensabile No vai Frank Di tu No no Diciamo che se Le ipotesi Quest'ultima Che ha detto Gigio Verrà fatta Certo Le fumetterie Lì ne risentirebbero Abbastanza Secondo me Perché avere un catalogo Completo Tu paghi 50 euro l'anno Per avere tutte le serie Di un editore Certo poi È un bel incentivo Al digitale E quindi Cioè Le fumetterie Secondo me Non spariranno mai No ma Ma non sono sparite Neanche i vinili Quindi figurati Sì sì Rimarranno più una cosa Per diciamo Per collezionisti Gli amanti Della carta Tipo Probabilmente Usiamo edizioni Da collezione Diverse da Collezione digitale C'è nel senso Ti proporranno Il cofanetto A 50 euro Di Non so Di un qualsiasi Tipo di manga Che può essere Boh Non lo so Titolo a caso Perché come dici Tu prima Cristiano Ci sono i vinili Ci sono comunque Le edizioni fighe Anche dei libri Se vai in libreria Nonostante esista Il digitale Ci sono tonnellate Di gente Se vai in Feltrinelli a Milano Praticamente fai la coda Per entrare Per cui C'è nel senso Non lo so C'è La musica La musica è un pochino Differente Perché alla fine La musica È più fruibile In tanti altri modi C'è youtube Ma è anche più facile In generale Da usufruire E la radio Ci sono tante cose Per fruire Della musica Il film Il libro È un pochino Differente C'è un pochino Un po' Differente È molto Differente Perché alla fine Come Adesso sono scorsi Un sacco di messaggi Dopo Ne recupero No ma Me li sono letti Più o meno Concordano Con quello che stiamo dicendo C'è anche io C'è lo vedete Nel senso Io sono per il cartaceo Nel senso Sarò sempre per il cartaceo Perché alla fine Sono cresciuto Con il cartaceo E sono abituato così Cioè sfogliare la pagina Anche tanto sentire Il profumo della carta O il puzzo Nel caso di quelli di J-pop Che ultimamente Io lo adoro L'odore di J-pop L'odore della finice È la mia droga L'odore N'è intenso Odora di Giappone Come direbbe qualcuno Però dobbiamo pensare Chiamiamo il Giappone Diciamo l'esempio classico Che nel 2022 Tutti i manga Siano digitalizzati Diciamo Alla pari Dei fumetti cartacei Un ragazzo Che ha dieci anni Che si approccia Per la prima volta In manga Comincerà a leggere In digitale È questione di abitudine Comincerà a leggere In digitale Comincerà al digitale E strada facendo Sarà abituato A questo sistema Noi Cioè Io Ma anche voi Anche se siete giovani Siamo una categoria A parte Siamo cresciuti Tra la carta Sì ma Io sono il primo fanatico Oltre che in generale Del fisico Proprio delle edizioni Edizioni da collezioni Infatti Questa è una parte Che la maggior parte Sono a Bari Però anche qua a Milano Nella mia trasferta Mi sono voluto ricreare Un po' quel Clima familiare Secondo me però L'incentivo più importante Che Non ho Non ricordo Se è già stato menzionato È che il digitale E questa è una cosa Che per esempio Il mondo videoludico Ancora non ha capito Infatti il digitale Nel mondo videoludico Non va così bene È che il digitale Costi molto meno Del cartaceo Quello è sicuro Un incentivo Secondo me non c'è stato A parità di prezzo Anche in questo caso qui La traduzione ce l'hai I diritti ce li hai Comunque Non devi pagare E cose del genere ce l'hai Hai il costo Che sarà sicuramente imponente Di quello che può essere Lo strumento Cioè il software Che ti permette di Gestire abbonamenti Di gestire Dati sensibili Sicurezza Quindi comunque Hai dei costi Non è che Il grandissimo risparmio Che hai Sono quel X per cento Che l'hai Il distributore Che poi La stampa I costi di stampa Il costo della carta Il costo di brossolatura Secondo me Non è assai Ma secondo me Un abbattimento di prezzo Del 30 per cento Sarebbe un ottimo incentivo Devi considerare pure Che c'è un passo in meno Della filiera Quindi Ma anche il rincaro Della fumetteria Quindi è una catena Più produttore Consumatore Diciamo Quindi lì Diciamo che il prezzo Deve essere più basso Per esempio Tu Chris Che sei un pochino Più ferrato in questo The Promised Neverland Per esempio O altro titolo di K-pop Che ho visto Che sono in digitale Cosa costa Su Amazon? Tipo Un 10 per cento in meno Un 15 per cento in meno No, no, no È molto meno Ah, ma dici digitali? No, non ho visto S Dicono 3 euro 3 euro? 2,98 Contro i 5,60 Quindi facciamo la metà 50 per cento Bisognerebbe chiedere Bisognerebbe chiedere a J-pop Se ha avuto un buon riscontro Questo Benvenuto ad Angry 2,2,1 Bisognerebbe capire se Questo riscontro C'è stato oppure no Anche se Possiamo dirlo Un manga Venduto Così Singolarmente Diciamo così E lasciato Un pochino lì Al caso Magari è stato Semplicemente Un tentativo Anche di J-pop Di sondare il terreno Cosa Anche plausibile Nel senso Sì, sicuramente Ci può stare Oppure J-pop Dice Ma Alla fine Io il file digitale Ce l'ho A questo punto Lo vendo anche così Ci sarà magari qualcuno Che Che lo preferisce Però diciamo Che non si farà Un passo decisivo In questa direzione Ripeto Sono tutti argomenti Che abbiamo trattato Nella live Dedicata Appunto a digitale Secondo me Sarà abbastanza lenta Come transizione in Italia E proprio in generale Noi per queste cose Siamo molto Soft Nei cambiamenti Quindi Ci vorrà del tempo Secondo me Magari Magari Fra una settimana Esce Esce il catalogo E mi smentisco Però Ma penso come Nico Cioè che la vera differenza Non è tanto il discorso digitale È solo un passo Cioè I servizi in abbonamento Eccetera eccetera Cioè se fai una cosa Deve essere una cosa fatta bene Sono perfettamente d'accordo con voi Cioè Che mi si metta Una sorta di servizio Di streaming Del fumetto In cui L'editore Si carica Tutti i titoli Di cui ha diritti Si metta lì Si chiede un abbonamento Che può essere anche Tutto sommato esoso Perché alla fine Se mi metti lì Tutti A disposizione Tutti i titoli di Star Comics Tutti i titoli di J-pop Ci sta anche Mi chiedi Quattro euro l'anno Cioè nel senso Belvedere Zero Belvedere Zero Dice una cosa interessante Però Signori Topolino Costa 3 euro Ed è a colori Eh Sì Dopo In termini di vendite Non so quanto venda ancora Topolino Sarà ancora venduto Tra i più piccoli Sicuramente Non ne parliamo Guarda Lo ristampano in continuazione Cioè vai esaurito E lo ristampano a nastro Una filiera Di cui mi sono Di cui mi sono occupato Lo leggevo da ragazzino Cioè nel secondo Proprio piccolino Sì Avevo buone parecchi Ricordo che quando Lo leggevo io Usciva il numero 2000 Perché mi ricordo Che il 2000 L'ho conservato Non so dove In qualche cantina Ci sarà ancora in giro Il numero 2000 Del Topolino Io ho il 3000 Io ho il 3000 A casa Bari Sei più giovane Sei più giovane E io il 2000 Come per dirti a Bari Ci ho verso la terra A Rossinina Sei mille volumi più giovane Sei mille volumi De volumi più giovane Circa tre anni Credo no? Più o meno tre anni Pensa 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 che pacco enorme È mille volumi di Topolino Oh l'ho comprato Quando era a Bari Lo tengo a Bari Mica gli faccio Fa un viaggio A un volume No è chiaro Cioè Mi chiede Di distruggerlo Golden Kamui Digitale 2,44 euro In che senso Io cercavo Golden Kamui No Forse cercavi L'edizione Di Golden Kamui Fisica No? O ce l'hai? No C'ho Golden Kamui Non lo so Sì Golden Kamui Tra l'altro Leggetelo Di Kamimura Che vi può avvicinare Anche all'autore Oppure leggete Il fiume Shinano Un consiglio Se non avete i soldi E volete però Tastare Golden Kamui O Golden Kamui Guardatevi la prima stagione Si convincerà Scusatemi No hai ragione Ho sbagliato io Ho sbagliato io Ha detto Golden Kamui Ho pensato Golden Guy Scusatemi Sì Infatti mi hai detto È il primo passo Perché hai detto È il primo passo Per leggere Il Kamimura Ho pensato Kamimura Ho detto Golden Kamui E ho stato in Golden Guy No hai ragione Golden Kamui Mi manca qualche Mi manca qualche Volume sparso Quella Ma li sto recuperando Grazie mille Il Ado Golden Kamui Manga Eccezionale Veramente È un manga Che io avevo Schippato in partenza E a furia di farmelo Consigliare A destra e a sinistra Ci sono No è bello Io ho visto l'anime È bello Veramente Bello Per me è una Una bomba Cioè per me è una bomba Sì 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 Quindi digitale Ripeto È un discorso Che ormai Si è fatto e rifatto Finché non ci saranno Effettivamente Dei Proprio dei passi in avanti Cioè proprio Tangibili Anche per il lettore È qualcosa Che possa Proprio È qualcosa Che rimarrà Un po' Un po' Sestante Proprio Nei nostri discorsi Riguardo i prezzi Onestamente Non so Cosa possano fare Gli editori A questo punto Nel senso che Siamo arrivati Al punto Che i manga Vanno comunque Esauriti Ora non si conoscono Le tirature Di Questi titoli Ci abbiamo detto Prima Asadora 7,50 euro Prezzo alto Nonostante sia Di Urasawa Cioè nel senso Sarebbe venduto Come il pane Anche Cioè Era scontato Che si sarebbe venduto Per cui Panini Poteva tenere Il prezzo basso Invece Panini Ha fatto L'esatto Contrario Cioè nel senso Visto che vende Io metto il prezzo Che dico io Il prezzo alto Non è tagliato Però vedo che Strada facendo Cioè I prezzi Tendono ad aumentare Anziché ad abbassarsi Per cui Gli editori Alla fine Seguono quello che Va a ruota Nel mercato Le vendite aumentano Nonostante Si aumentino i prezzi Per cui Sono incentivati A tenere i prezzi alti Alla fine Intanto voglio dire Alla fine Il mercato Dà ragione a loro Cioè se la gente compra Il mercato Dà ragione a loro Sì sì Ma alla fine Il prezzo lo fa il mercato Alla fine Se posso capire Se non vendono Quindi Sei costretto Ad abbassare il prezzo Poi considerate Che nel mondo Del manga Siamo teoricamente Ancora Abbastanza Diciamo Discretamente Fortunati Perché se noi Ci approcciamo Invece ai comics Lì negli ultimi due anni Negli ultimi due anni È stata Un'ammazzata Clamorosa Cioè nel senso Che In virtù anche Del fatto Che comunque Panini Hai il monopolio Perché alla fine Hai il monopolio Dei comics In Italia C'è poco da fare Perché dopo l'acquisizione Già prima Già prima Dall'acquisizione Di DC Con l'acquisizione Di DC Tanti saluti E baci Ciao Merlot 1987 Per cui Lì c'è stato proprio Un'impennata Dei prezzi Con gli spillati Che sono arrivati A 6 euro A fronte Di una Qualità Della carta Di un'edizione Stiamo parlando Di spillati Cioè nel senso 50 60 pagine A 6 euro È vero A colori È vero La qualità Però Cioè di solito Lo spillato Era quello che tu Compravi Non so Proprio Da leggerti così Compravi Sì sì Random Personaggi Eccetera eccetera Io pure Ce n'ho a casa Alcuni comprati Favano Ma le fiere Perché costavano 3 euro A un certo punto Hanno raddoppiato Il prezzo Così Che poi gli spillati Prima qualcuno Diceva Eh ma con il digitale Non lo posso rivendere Ed è vero Ce ne si sa Con il supporto Cioè con Con i videogiochi Nel senso in tanti Dicevano Ma io continuo a comprarmi Il videogioco Perché comunque Al limite Vado da GameStop Sanguisuga Che gli do 12 giochi E mi fa 10 euro Di sconto Però Eh Quello Anche meno I manga invece Devo dire Che ultimamente Da questo punto di vista Qui Non dico che le rivendi Praticamente al prezzo Di copertina Ma Ci passi quasi vicino No E Invece per esempio Per i comics Gli spillati Praticamente sono A parte Per qualche volume Che può essere Non so Una variant O un volume particolare La prima apparizione Di questo Di quest'altro In Italia Gli spillati Sono poco più Che carta straccia Cioè nel senso Che vendi A 5 euro 30 spillati A 10 euro 50 spillati Cioè Non 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 ti vale quasi Nemmeno la pena Di metterti dietro Per cui Già 6 euro Pensare Uno spillato Di cui Ora dalla fine Lo leggi In pochi minuti E alla fine Ti resta anche lì Anche dal punto di vista Collezionistico Alla fine Non è così bello Da vedere Come un talent Con un per dire No E dopo c'è la tv Che fanno le edizioni Dopo anche lì Pornolusso Non è che Ah sì Cioè dopo ci sono I vari volumoni Io sto parlando Proprio dello spillato Più puro Sì Spillato In libreria Scompare Xie Jackie Comunque va bene La Jpop Con la copertina E tutto Ma 7 euro e 50 Per Land of the Lust Truss è esagerato E l'ho comprato Xie Jackie Non lo comprare Cioè Se pensi che sia esagerato Non lo comprare Sì Magari però Gli piace Particolarmente La storia Capisci però Che qua il ragionamento È bastardo Se ci pensiamo Perché loro Ci prendono All'amo Proprio così Bravo Sì Allora E poi tra l'altro Adesso sto sfogliando L'anteprima Con i comics Praticamente Ogni volume Ha la sua variant Praticamente Per i collezioni Avengers 29 Con variant A 3 euro Iron Man 4 Thor 10 Con variant X-Men Con variant Fantastici 428 Con variant Cioè praticamente Miles Morales Spider-Man 13 Con variant Cioè praticamente È un costante Cioè proprio qui A livello di Dopo per carità Diciamo sempre Le variant Si possono acquistare Non si possono acquistare Se le volete collezionare Se non le volete collezionare Però Nel mondo dei comics È veramente Assurdo Con fronte a quello Dei manga Però Quello che diceva Anche prima Cristiano È assolutamente vero Cioè nel senso Che ora della fine Anche tu Anche tu Frankie Siamo bravi Anche a farci Un pochino Abbindolare noi Nel senso che Le variant Vanno esaurite I manga Con i gadget Vanno subito Cioè io penso Al grembiule A quel cazzo Ma no Il cazzo di grembiule C'è lo Yakuza Andate Un cinese Vi dà il grembiule Cioè vai 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 Nel negozi Vai nei negozi Cosa può costare Cosa può costare Un grembiule normale La cucina Zero Eppure siamo tutti impazziti Per un grembiule Con su scritto La via del grembiule Ma io Per primo Io pure L'ho preso Col volume 2 Nel senso È proprio una questione Che noi ci facciamo A vendolare La spilla Di Slendank Cioè la spilla Di Slendank C'è lo stato Su ebay Vedevo tipo L'inserzione A 20-25 euro La spilla Dell'anniversario Di Slendank Una spilla Cioè nel senso A questo punto La vendola Una steelbox Di Death Note Adesso è stata A proposito Per qualcuno Che se lo vuole È tornato disponibile Sul sito di Panini Potete riacquistare Death Note La steelbox Quella da 19,90 Con dentro la variant Ecco Quelle ne capisco meno Il grembiule Per esempio Invece mi era piaciuto Perché a fine Era una cosa Che alla fine Usi pure Vai vai Parla Parla Vai vai Dice 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 Cinesi Ci mancherebbe Anche Rispondo Un attimo A Juliama95 Ma come si fa A non comprare Un'opera Solo per via Del prezzo alto O meno Ma quello che io Dicevo a Ixi Jackie Non era un rimprovero Sul non comprare Land of the Lustrous Era solo poi Per arrivare Al fatto che Noi appunto Ci facciamo Prendere all'amo Comunque Bella proprio Juliama95 È il link Di Link's Awakening Di A Link to the Past Mi dica lei È il link Comunque palesemente Ah tu ancora Non lo aprivi Non è che aperto Io non l'ho ancora aperto No io ci ho cucinato pure L'ho distrutto Come lei ci hai cucinato Ma che cosa vuol dire Sto che cosa L'hai impattaccato L'ho impattaccato Di sugo Certo Ma che Ma può Ma può Poi l'ho lavato Però dai Adesso lo provo Però Almeno Va Io non lo prendo Perché è sporco Veramente Quindi lasciamo Perdere Eh sì Art Menestrello Ce lo ricordiamo Molto bene Non riesco a avvicinarti Perché ci sono i Lego Per terra E di Chissà di chi saranno I Lego Gigio Senti Togli di il grembiule Sei eliminato Da Twitch Diciamo che Più che un grembiule Per cucinare Sembra quello che usa Tipo i Tipo i macellai Sì Per disostruire Questo non è I poli Massacre Questo non è Succo di fragole Thomas Hewitt Eccetera eccetera Fa un po' quello No vabbè Allora Parliamo anche Cioè per esempio Questo grembiule Se non sbaglio Era gratuito Oltre al prezzo Del No caro Nasek Decisamente no Non lo faremo No non era gratuito No non mi ricordo Io l'ho preso col numero 2 Io l'ho preso col numero 2 Ah no Volume 2 Più grembiule 14 euro mi sembra 13,90 Eh sì 13,90 Scusi Allora Ve lo dico Vendo il mio grembiule In cambio di una canzone di Cristiano Ve lo autografo anche Scherzo Io vendo il mio sporco di sugo In più Ecco Il tuo fa molto Masterchef Eh Allora Caro Però evitiamo appunto Che ci siano incidenti Ecco Evitiamo Lo so che non è bannabile Ah non è bannabile Finché non mostra Se tu giù togli il grembiule Sei fuori da Masterchef Che che mi fa da Masterchef Orate Masterchef voi Io Io Ora ragazzi Io ve lo dico subito E se non vince Max Io non lo seguo più No Io voglio la vittura Io quest'anno voglio la vittura Io ero tra quelli l'anno scorso Che ti fava per Per Maria Teresa Quindi non ho diritto di parola Credo Che ti fai? Maria Teresa Ah oddio Maria Teresa è quella bambina Fai te che la circo La Eh Mo appena la vedi La ricordi La stronza Dai Masterchef 9 Masterchef 9 Teresa qual era? Vediamo un po' Non mi sa mai Ma no Sì Madonna Quella è Sì era Era un gatto attaccato ai maroni Mamma mia Alessandro DL H Alex Ilian Puoi sistemare la cosa delle ricompense del cuore Perché lo chiedevano prima? Ah già è vero Ilian che Ah no Ilian aveva Mi avevi spoilerato No Avevi fatto qualche Qualche meme Stupido E c'ero cascato io in primis Va bene Zamba Comunque Nemmeno la madre di Maria Teresa Ti fa Maria Teresa L'anno scorso Penso che un off topic Come questa puntata qui Non l'abbiamo mai fatto Cioè Siamo passati dal prezzo di manga A io che indosso il green view Uh Possono riscattarli E siamo andati addirittura A Masterchef C'è proprio una cosa Eh ma è colpa della chat Non loro È la chat La chat che stasera è bella pimpante Mi piace stasera la chat Però noi hanno ancora visto La donazione di 15 euro Eh sì sì Molto pimpante però Qui Cristiano non canta Perché Io ho detto prima in chat Che se si abbona qualcuno Io faccio una sniffata della Fenice Una sniffata della Fenice Sì Sì però così A te interessa Frankie una sniffata della Fenice Eh appunto così Interessava la chat Disincentivi No ma non la chat Così disincentivi Ha ragione Frankie Stai disincentivando E per quello che non arrivano poi donazioni Perché sostanzialmente Tu Ti stai disincentivando No Ma allora interessava Canti a testa in giù Heidi Se raggiungiamo i 10 euro Di donazioni Donazioni dai Giuro Giuro Canta a testa in giù Heidi In falsetto Che a testa in giù Kirio enters the chat Come Kirio enters the chat E' entrato chi c'è Kirio? C'è Kirio che ci segue? Non lo so Vediamo subito No Non c'è Non c'è Kirio Ah sì Per la sniffata della Fenice Probabilmente era per quello Vabbè Chris il mio cuore dov'è? Ma non l'ho visto L'hai riscattato AC94 Non l'ho visto Che lo riscattavi Tu intendi anche rivenderlo Quel fumetto Con dentro La tua sniffata Cioè ti sei pulito il naso Nella Fenice E poi pensavo Non lo so Non l'ho scammato Ah è vero L'ha riscattato Ha ragione Chiedo scusa Non la volevo scammare Infatti ne faccio uno E ne faccio anche un altro Ok Che cos'è questa roba? Io sono in giro Non lo so Non lo so Digli poi di sì Digli poi di sì Nel dubbio Per il costo dei manga Perché sennò qui ragazzi E' tosta Mi state facendo andare fuori di testa Dicevamo Di prezzi Che appunto Non sappiamo se Gli editori Cioè che strada percorreranno Perché alla fine Se noi Continuiamo a comprare Adesso non è che sto dicendo Smettiamola di comprare Però probabilmente Un po' il nostro comportamento Come appassionati Io in primis Nel senso Non è che sto giudicando qualcuno In particolare Giudico me stesso Cioè continuando a chiedere Continuando a pretendere Continuando a Diciamo così A scannarci Dietro alle Edizioni Pornolusso Dietro alle variant Dietro a gadget E quant'altro Secondo me Alla fine E' come una sorta di boomerang Nel senso che Ci si ritorce un po' contro Io ricordo ancora Quando Panini Aveva Non mi ricordo Il motivo Per cui era successo Però sostanzialmente A questo punto c'è stato Ah per l'illustration Di L'illustration book Di Slendike Quello delle 500 copie È andato esaurito Gente che si ammazzava Su ebay Per prenderlo Blah 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 E leggevo tonnellate Di commenti Boicottiamo panini Non compriamo più panini Da adesso Non compriamo più panini E poi E noi non vi portiamo più manga Eh Vedi le classifiche Vedi dopo è chiaro Che non è Una scienza esatta Però tu vedi le classifiche Dei volumetti più venduti Su Anime Click Che facciamo ogni mese Primo un titolo di panini Secondo un titolo di panini Terzo un titolo di panini Quinto Quinto un titolo di panini L'editore che è venuto più volumetti Panini Cioè nel senso Boicottiamo gigoli Ammazza che boicottaggio Mi boicotta Guarda me Potete piaciuto boicottare Speriamo Che me lo auguro Però la Alla fine Spermai È il nostro comportamento Che poi porta A tutto questo Cioè nel senso Loro seguono Quello che può essere Quello che può essere L'andamento del mercato I preordini Le richieste E poi chiaramente Agiscono di conseguenza Per paura che fosse andato esaurito Ho subito preordinato S'inghiessere dei formini Un po' manga Bravo O bravo Sì fai bene Perché Onestamente Con i tempi che corrono Si rischia Si rischia di Che si esaurisca Che si esaurisca Molto Molto presto Dicono che non si ruba Casa del lato Probabilmente intendono Casa tua No intendono panini Spero Ah Eh sì Non so E poi mi dissocio Con questi termini Attenzione Attenzione Mi dissocio Stanno mistificando La realtà Io a differenza Io a differenza Di chi usa Cattivi termini Con panini Dico semplicemente Che panini È estremamente furba Probabilmente Non è la casa editrice Anzi sicuramente Non è la casa editrice Che è più vicina Al lettore Però semplicemente È un'azienda E ogni azienda Fa proprio Che fai Io intenderei Gigio Oh questa Ma il bagnante Chi è Chi è Caron Caron Ma è Qualcuno Riconosci Chris È un È un utente Che sta Che sta spesso In chat Qua su Su Twitch Ah ok Sul sito Chi è Non lo so Sono onesto Non lo so Banniamo Banniamo No spesso No non banniamo No noi non banniamo Nessuno Io sono un profeta Allora Caron Hasek Se non diventi più umile Ti sospendo per 5 o 10 minuti Con tutto che ti voglio bene Però qua Bisogna dimostrare Chi ha il potere Sì Qui si dice J-pop Con edizione BD Con edizione BD Immagino BD Non DB BDB Un'intervista Con il suo CEO Parlava di un fatturato Anno di 2 milioni di euro Sì Pensa Cioè Sì Non lo so Immagino che Sia una cifra Più o meno Coerente Però Se noi prendiamo Panini SPA Panini SPA Fattura Nel 2017 536 milioni di euro È tutto un altro livello Sì infatti Altro mondo Chi mangia per Panini Se sono il 2% Il 3% Il 5% È quello che sono Perché tra Marvel Figurine Disney Collezioni Album di figurine Particolari Non soltanto calciatori C'è Edicola Settimanali C'è All'universo C'è nel senso Avrà 300 pubblicazioni Al mese C'è nel senso È un colosso esagerato Per cui alla fine Cioè noi possiamo Impegnarci A voler A volerci impuntare Quanto vogliamo Come ha detto Chris A un certo punto Dice Ma domani mattina Panini decide anche di Di chiudere la sezione manga Dicendo Adios C'è nel senso Cioè Purtroppo In determinati casi È un po' come C'è nel senso È un po' anche La classica leggenda Quella della Della volpe dell'uva Nel senso Che quando La volpe non arriva all'uva Dice che è acerba Per cui in tanti casi Può capitare Che quando Un utente Non può permettersi Un volume Dica che quel volume Faccia schifo Che a casa si dice Faccia schifo Eccetera eccetera Io lo contemplo Per determinati titoli Perché per esempio Abbiamo detto in apertura Cioè Per Banana Fish È obiettivo Il fatto che costi Cioè È un fottio Senza un motivo Cioè ok Un manga che potrebbe essere Di nicchia È uno shoujo Anche se non ha Praticamente Nulla dello shoujo Perché comunque Si mescola tantissima azione Adrenalina E quant'altro Per cui comunque C'era un titolo Che secondo me Poteva essere vendibile Era richiesto Non so da quante fiere Che si sentiva al team Era appena uscito l'anime Era uscito l'anime Eccetera eccetera Quindi alla fine Si poteva vendere Il motivo per cui L'hanno fatto 18 euro Per me È inconcepibile Al 100% Lone Wolf Ad esempio L'abbiamo detto prima Paragone Pagine Prezzo È in linea Con Cioè Con quello che noi Compriamo solitamente Cioè 7 euro O 6 euro O anche 5,50 Per 180 200 pagine In proporzione Sono le 700 pagine Di Lone Wolf A 22 euro Però è chiaro Che mensilmente È bilanciato Eh ma il problema È la cadenza Ragazzi Il problema è la cadenza Perché 22 euro Al mese Sono 66 euro Al mese Gigio Ragazzi Per 12 mesi Perché sono 12 volumi È una salassata Senza poi considerare Che non è che puoi dire Sì ne recupero uno Pian pianino Poi recupero quell'altro Panini Si esaurisce Salute Il manico Ma ecco perché Per dirti Io non appena ho saputo Che sarebbe uscita Questa edizione Mega galattica Di Lone Wolf Me la sono fatta mettere Da parte Con box Con box Sì ma ha ragione Ha ragione Vedo che anche Chi scrive Che dice Banana Fish 18 euro Monster 13 euro Ciao Xander Ciao Xander Ciao Ciao È proprio inconcepibile Banana Fish Non lo proprio Forse è uno È uno Dei quei titoli Che mi vengono in mente Che il prezzo Veramente Lo vedo Proprio fuori Dal Dal mercato Poi magari Sì Altri sì Magari leggermente Più costosi Della media Qualcosina in più Qualcosina in meno Però Forse Quei rimangano A 15 Hanno proposto Da poco L'importale a 15 Questo è un pochino Più Ha un formato Un po' più grande Lo stesso numero Di pagine Supergiù C'è gli occhi di fianco Quindi più o meno Sono quelli Quindi dicono Se uno va a 15 euro L'altro mettiamo a 18 Poi probabilmente Hanno sentito I reclami Degli appagini C'è il reclamo Degli appassionati Perché poi Hanno corretto il tiro Con Fullmetal Alchemist Mi auguro Perlomeno Che Da adesso in poi La linea sia quella Perché va bene Aumentare un attimo I prezzi Però È vero Che Una buona fetta Dei lettori Non è più adolescente Come negli anni 90 Ma cominciano A esserci dentro Tanti salaryman Come sottoscritto C'è nel senso Persone che comunque Hanno uno stipendio Che comunque possono Permettersi Quel manga in più Eccetera eccetera Però A un certo punto Uno si Inquanto C'è nel senso Che Da lì Se aumenta uno Una aumenta due Una aumenta tre Cioè poi A fine si sente Non è un cazzo isolato Se poi diventa una Ci sono Una cosa ripetuta Per più Quanti manga escono Al mese Rossellina Rispondi Renditi utile Quanti manga escono Al mese Tu che Rispondi La nostra Regina del volumetto Rossellina Ragazzi È un boaspe Guarda le classifiche Le classifiche Di titoli Di manga venduti E più o meno Ci Vediamo Rossellina è la numero uno È La top Per queste cose qui Del nostro sito Lei sa tutto Sì Rossellina È l'occhio È l'occhio che vede ogni cosa Cioè È l'occhio del futuro Del Master of Master Di Kingdom Hearts Lei poi li compra Tutto quello che scrive E poi li compra Lei compra tutti I volumetti Di cui parla Lei si li compra Che legge Ma Lei Centocentro Misericcia No no Non Sauron Su Collecting Manga Parlo di Kingdom Hearts Se Banana Fish È a 18 euro E Non vi aggrada Adesso continuiamo a parlare Altri titoli A cui potete attingere Che comunque mantengono Un prezzo Abbastanza decente Ormai Lo standard minimo Sappiamo essere I 5 euro Nel senso Meno di 5 euro Ce ne sono ormai rimasti Veramente pochi Però Ci sono C'è la possibilità Di leggere cose belle Anche a basso costo C'è C'è veramente Un'invità Diciamo che il mainstream Costa è ancora abbordabile In diciamo Il classico manga Lungo Tranne qualche eccezione Di serie Tipo Demon Slayer Jujutsu Kaisen One Punch Viene Portarla là Ancora Per i prezzi Sono molto Edizioni semplici Però Io come Già ne parlavamo Io sono per le edizioni semplici La storia è quello che interessa E quindi Ben vengano le edizioni Pezzenti Tra virgolette Che però La Pezzent Edition La Pezzent Edition No niente Pezzent Edition Niente Niente sottilette No 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 Sottilette no No cos'era Max Ciotola Lunedì da noi Proprio diceva Che secondo lui È folli A riproporre una sottiletta Oggigiorno No Beh certo No Allora La gente Quei forconi Che diceva Che era sotto gli editori Sì Ecco Voi Viste domani mattina Uscisse qualcosa in sottiletta Magari un titolo Lo so Se Panini Avesse fatto la nuova edizione Di Full Metal Alchemist In sottiletta No Li prendo a nocchini No Mi dissocio Mi dissocio Ovviamente Ma 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 Nel senso Bisogna anche essere un pochino Onesti con se stessi Cioè nel senso Essere Consapevoli Che alla fine Fanno 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 Quei titoli Queste edizioni Lussuose Perché le abbiamo chiesto noi Cioè Ripeto 15 anni fa 15 anni fa Non l'avrebbero fatta L'Immortale a 15 ore e 90 Ci sta? È una domanda Nel senso Se lo vuoi Che lo vuoi provare Ci sta Cioè nel senso In manga In manga verità È un lavoro assoluto Cioè stiamo parlando Di uno dei top seinen Proprio della storia Samura Veramente meravigliosa Una storia Classica Cappa e spada Doveva avere il personaggio Principale Per ragioni Che non Che non sto a spiegarvi È Immortale E sostanzialmente Desidera Morire Cioè si mette a repentaglio Comunque La propria vita Fa da Da guardia del corpo Fa veramente Di tutto Per mettersi Nei guai Tra virgolette E combatte Contro l'Hittorio Insomma che è una Una scuola Veramente potentissima Lui contro tutti Per Per raggiungere Il suo scopo Che alla fine è quello Di morire Perché comunque È un personaggio Estremamente disturbato È un manga Violente È un manga Maturo Molto maturo Eh magari Se forse lo splatter Non ti piace Ti disturba un po' Forse non è proprio L'ideale Però È uno splatter Graffiante Ce ne è Sesso Non è Sì Non è uno splatter Puramente horror Cosa del genere Non è fine a se stessa Esatto Se è la possibilità Recuperalo Chiaro È un prezzo Altino Però anche qui L'Immortale Così come Slam Dunk Come Full Metal Alchemy Sono stati Titoli che sono stati Chiesti talmente Talmente tanto Che quando Sono finalmente usciti Abbiamo tirato Un sospiro di sollievo Diciamo così Io sono stato per tanti anni Tanti anni Per 5-6 anni Sul web Con tanta gente Con cui non ti potevi Rapportare Su determinati titoli Come ad esempio Ho detto Slam Dunk È uno di quelli Cioè nel senso che Tanta gente Purtroppo non poteva Recuperarlo Perché era prezzi Esorbitanti Dappertutto Per cui Adesso che avete La possibilità Di leggerli Che avete la possibilità Di acquistarli Fatelo Fatelo Perché Arriverà poi Il periodo In cui non saranno Più disponibili È un dato di fatto È un dato di fatto E Per cui Approfittatene Veramente Io dico sempre Dopo Può essere Un ragionamento Da boomer Non lo so È meglio comprare All'immortale A 15 euro Che due titoli Magari Così così A 7 Dopo il titolo Io sono d'accordo Sono d'accordissimo Sceglieteli voi Ognuno ai suoi Sono gusti personali Cioè Non è Un troll Immortale Insomma In libreria Ci vuole Diceva Ha riscatato Un messaggio Giova 982 Intendevo A livello Di prezzo Ah intendevo Ecco Mi hai fatto parlare Mezz'ora Evidenzia prima No scherzo A livello di prezzo Ho qui L'edizione Allargami Chris Aspetta un attimo Mi allargo da solo Lascia stare Ci penso io Dammi un attimo Solo layout Solo layout E non si capisce Tanto bene Secondo me Comunque Ha questa Sovraccoperta Che è ruvida Non mi piace Assolutamente In alcun modo La grafica Delle costine Devo dire Io la trovo Molto giapponese E la trovo Azzeccata Se devo essere onesto Boh Nel senso Però Ecco Ha delle belle immagini Quello si Cioè nel senso Ha delle belle Illustrazioni Ok E tra l'altro Questo è un manga Che secondo me Deve stare per forza Nelle bustine Perché altrimenti Tutta la costina In carta riso Diventa Una schivezza E vabbè Dopo sul discorso Delle tavole Vabbè Qui Il problema è che Il numero 12 Rischio di spoilerare No No Non mostrare niente E a parecchie pagine Perché siamo Sulle 450 Pagine A volume Torniamo al discorso Di prima Se lo rapportiamo Al numero di pagine Comunque Un prezzo Tutto sommato Accettabile Ecco Dice Nico 159 Capito E' interessante Perché citando Caverna Lui stesso dice Che invece E' un mercato morente Quello dei lettori Di manga in Italia Ma se parliamo A livello di persone Che leggono Sì Perché sempre meno Gente legge A livello di vendite No Perché se i manga Continuano ad andare esauriti Un motivo ci sarà Sempre meno gente legge Sì A livello di sondaggi A livello di sondaggi Sì Sì Ma forse Forse paradossalmente Con i manga Succede un po' Quello è in generale Libri Forse C'è stato Un vero e proprio boom E questo è un dato di fatto Quest'anno Cioè quest'anno Il 2020 Però il 2020 Dagli annali Della storia Andrebbe cancellato Nel senso Che al di là Del covid Ha fatto sballare Un sacco Qualsiasi tipo Di ragionamento Perché Per esempio Le fumetterie Io ne ho sentite Beh una è stata in live Con noi Però ne ho sentite Due o tre Tutte quante Dicono che Hanno proprio avuto Un boom Dovuto al fatto Che la gente Essendo chiusa in casa Leggeva Ha avuto Quel desiderio Sì di Passare il tempo Leggendo E questo comunque Perlomeno È un risvolto Uno dei pochissimi Risvolti positivi Del 2020 Sì Per cui Bisognerebbe poi Provare a vedere Negli anni Cioè nei prossimi anni Io non Io mi accorgo Che i manga Sono estremamente Più chiacchierati Rispetto a prima Questo non c'è Alcuna ombra di dubbio Che poi dopo Questo chiacchiericcio Sia fatto Solo da cento persone E non da milioni Questo è un dato di fatto Cioè nel senso Le persone che leggono manga Non sono milioni In Italia Parleremo di Di migliaia Però a fine Anche le varie fiere Fin quando ci sono state Sono sempre state Sempre più Frequentate Non lo so Cioè nel senso Alla fine Noi purtroppo Non avendo Non avendo i dati Di vendita Rispetto al Giappone C'è anche Giulia Amano 95 Che chiedeva Perché non si hanno I dati di vendita E perché banalmente In Giappone li pubblicano In Italia no Ma Nessuno è Nessuno è tenuto A pubblicarli Semplicemente I giapponesi lo fanno Perché gli va di farlo Tutto qua Ma Allora nel senso Che secondo me Perché nessuno È una domanda Che non E non I dati di vendita Non ci potranno mai essere Cioè nel senso Non sono Cioè li avranno Chiaramente gli editori E basta So che Beh Chiaramente Panini Essendo una SPA Depositerà il bilancio Sicuramente Ed è comunque Fruibile Credo A chiunque Io non mi ci sono mai messo A andare a cercarlo Perché onestamente Non è che mi interessi Particolarmente Ecco Giulia hai ragione I giapponesi piacciono Le classifiche Quello lo vediamo anche Nei manga Con Vota il miglior personaggio Vota questo Quello sì I giapponesi piace molto di più Credo che comunque Gli editori in Italia Non pubblicano le classifiche Anche per questioni Di concorrenza Con 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 gli altri C'è nel senso Alla fine Tu Vuoi far comunque Credere Che questo titolo Vende Che questo titolo Cioè Non vuoi Sicuramente Anche i diritti Se la giocano Tra di loro Cioè nel senso Io rubo un diritto A un'altra casa editrice Rubo per modo di dire Offro di più Per un diritto Se poi questo Non vende L'altra casa editrice Mi percurerebbe No Oppure 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 se un titolo Vedi che vende Tantissimo Magari la casa editrice Concorrente Alla scadenza Dei diritti Fa un'offerta Bastodontica Perché sa che Che vende È un po' È un po' Complicato Sì ci sono le classifiche Di anime click Però alla fine Sono un po' Come i sondaggi Sono come i sondaggi Elettorali Nel senso che Sono una piccola Fetta di Di lettori Sarebbe bello Se Si avesse Un Un sondaggio Un po' Più Nutrito Cioè un sondaggio Su 50.000 lettori Allora lì Hai un È un bello specchio Di quello che può essere Quelli che possono essere I dati di vendita Tu Frank Ti sei accorto Che la gente Ha calato La lettura? Ma secondo me No Infatti Non lo so Sui libri Diciamo Tradizionali Non so Sui manga Pure io Sento Molto più Chiacchierare Molto più Parlare Vedo In fumetteria Come dice Scaffali vuoti Che poi non so Se dipende Da Da quanto Acquista la fumetteria Però io Cioè Vedo anche Proprio Un via vai Di gente In fumetterie Vedo su Amazon Volumi esauriti Quindi secondo me Poi Il fatto della quarantena Ha influito tantissimo Quando uno sta a casa Poi magari Chi aveva Una passione Molto Relativa No Magari Ma torniamo a leggere manga Magari ne compra uno Due Poi si appassiona Prende il seguito Quindi è tutto È stato un anno particolare Però Secondo me Non lo so Tu hai sentito pure alcune fumetterie Quindi Diciamo che Le fumetterie Più che altro Dicono semplicemente Che Se un tempo Quando Non so Acquistavano in manga E poi li esponevano Una fetta di questi manga Rimanevano Tra virgolette In venduti E poi Stada facendo Gli avrebbero Che Gli avrebbero poi venduti Stada facendo Adesso Tutto quello che mettono Sugli scafali È polverizzato No Cioè È veramente E poi Comunque Altra cosa Secondo me Ci sono Rispetto Alla generazione precedente Cioè Rispetto alla mia Lo so che forse voi Non vi troverete in questo Ci sono comunque Anche tanti giovani Che hanno il borselino gonfio C'è nel senso Che probabilmente Lì ne è passato da Ma vedi anche la 18 up Cioè Per dirti io Chi sei Gio e Gio Gio Io ho recuperato Chi sei Gio e tre saghe di Gio Gio Grazie alla 18 up Altrimenti Perdonatemi La schiettezza Ma col cazzo Che spendevo 250 euro Sull'unghia di manga Ma banalmente Non perché il fumetto Non le meritassi Ma perché non li avevo Quei soldi Sì Sì Questo fatto Che contano Cosa Hai comprato Pornazzi Con la 18 up Sì 250 euro di manga E gli altri 250 Negli anni 90 Te l'avrebbero detto così Ah Non so Magari Caverna Che io seguo De Bravismo Anzi Vi invito a seguirlo Probabilmente Mari intendeva Rispetto Non so Rispetto ai giapponesi Ah sì Magari Forse io L'ho anche seguita Quella live E forse però lì Si faceva proprio Un paragone Tra Quanti giapponesi In media Leggevano Fumetti Rispetto a quanti italiani Leggevano fumetti Ma di base Io sono convinto Che ci sia stata Una diminuzione Cioè probabilmente È entrato È entrato Nuovo pubblico Ma al contempo Ne è uscito tanto A livello di lettori Secondo me C'è stato semplicemente Un rinnovo In circolo Di lettori Quindi Nuovi lettori Hanno comprato Tanto Ma al contempo Sono usciti anche Tanti vecchi lettori Che si sono Stufati Di spendere Un sacco di soldi Anche perché Se andate a vedere Secondo me La maggior parte Di manga Che svuotano Gli scaffali Sono Giganti Myro Accademia Demon Slayer Dr. Stone Tokyo Ghoul Quel tipo di manga Che hanno un po' più presa Sul Sul pubblico generalista Secondo me Anche questo è un fattore Era con il resto D'Europa Beh sappiamo per esempio Che in Francia Esiste Più che Più che un numero di lettori Anche una cultura Del fumetto Che completamente Rispetto alla nostra Però È tutto un processo Cioè noi siamo Sommè Nella 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 seconda generazione Di lettori Cioè Allora Negli anni 90 Quando diciamo C'è stato un pochino Di più Il boom Dei manga in Italia I manga in Italia Arrivano prima Degli anni 90 Però diciamo Che cominciano ad esserci Negli anni 90 E 2000 Sempre andati Sempre andati in salita Nel numero di pubblicazioni Però Quando io ho cominciato a leggerli Negli anni 90 Non c'era un settantenne Che leggeva manga Non c'era nemmeno un quarantenne Che leggeva manga Cioè magari ce n'era uno Due Però Non c'era sta grande schiera Dei lettori quarantenni di manga Di lettori quarantenni di manga O cinquantenni I quarantenni I quarantenni saranno Sessantenni Ok Ci sarà quella fetta di pubblico Ci sarà la fetta di pubblico Di quarantenni Ci sarà quella di venti Cioè sarà sempre un pochino in crescita Fino a che appunto Si stabilizzerà Quando più o meno Sarà passata Un intero ciclo Questo che viviamo noi Adesso in Italia Lo hanno vissuto Alla stessa identica maniera Anche in Giappone Cioè Perché nasce il Gekika In Giappone Nasce il Gekika Perché la popolazione Che è nata con i manga Che è cresciuta con i manga È diventata adulta Diventata adulta Aveva bisogno di temi adulti Nel dopoguerra Quindi alla fine Cioè il Giappone Ha i manga Da inizio del 1900 Manga Parla dal punto di vista Dell'illustrazione Forse 1900 1902 Mi sembra che è il primo manga Ne parlavamo prima in pre-live Se non sbaglio Diciamo manga Inteso come Non come semplice illustrazione Ma Come qualcosa di Seriale Cioè comunque di illustrato Su più pagine Ok Poi invece è stata la guerra E quant'altro Però capite Il Giappone ha Cento e passa anni Di cultura del manga E del manga moderno Possiamo intenderlo Come Osamotezuka Quindi parliamo Di anni 50 Per cui ha 70 anni Di cultura del manga L'Italia ne ha 20 30 al massimo Cioè c'è un abisso Tra le due Cioè non si può fare Paragone Giappone Italia Sempre poi calcolando Che i manga Nascono in Giappone Ed è normalissimo Che in Giappone Non esiste la cultura Della pasta Come in Italia C'è nel senso O del caffè O della pizza C'è nel senso Nascono lì Fa parte Della cultura Loro Addirittura Addirittura Ci sono autori Che quando vengono In Italia Si chiedono Come mai I loro manga Hanno successo In Italia C'è nel senso Perché non Non Concepisco Eh Rokuda Rokuda pure Se ti ricordi Rokuda Ma anche Fugita Ce ne sono stati Di autori Che proprio Si domandano Come mai Il loro manga Scritto prettamente Per i giapponesi Sulla cultura nipponica Sulla società nipponica Abbia successo In Italia Però Sono tutti Sono tutti complimenti Secondo me C'è nel senso Che alla fine È un qualcosa Di estremamente Ampio Da valutare Chiaramente Però È un dato di fatto Che Pian pianino Stiamo crescendo Anche a livello culturale Il manga Sì Le librerie L'ultimo commento Parla di pregiudizi Il penultimo commento Io ne vedo molti Molti di meno Di pregiudizi Rispetto a prima Io mi ricordo Quando leggevo Qualcosina Quando ero bambino Io I anni Fili anni 90 Veramente Era Considerata Una cosa Menestrello Però Io ti dico Cioè C'era proprio Bullismo Su chi legge Sì Abbiamo fatto Passi avanti Notevoli Da questo punto di vista Li leggevo Nascosto Perché Sembrava quasi Di giocare Con le macchinine Di giocare Con i Lego A 14 anni Cioè Ti venivi trattato Così Sembravi Ma legge ancora I fumetti Cioè Nel senso Era come dire Mamma Che cazzo Stai leggendo Cioè Dopo per fortuna Avevo una professoressa Che la ricordo Perché una volta Disse Ai miei genitori I miei genitori Dicono Eh ma Professoressa Legge soltanto Fumetti L'importante È che legga Cioè nel senso Può leggere anche La gazzetta dello sport Ma l'importante È che legga qualcosa E Quello mi aveva dato Un incentivo Cioè con la professoressa Lì la ricordo ancora Scuole medie Però Mi aveva dato Un bel input Nel senso Di dire Allora non è Quello anche così male Però Cioè nel senso C'era veramente Il bullismo Non che ti menavano Adesso Non penso che qualcuno Sia mai stato picchiato Perché legge fumetti Ma deriso Sì Cioè nel senso Era considerata Proprio una cosa Da bambini Piccoli Esatto Cioè psicologicamente Era molto Era molto Particolare Leggere i fumetti In quell'epoca Dopo devo dire Che a me ha aiutato Veramente tanto Anime Click Perché Con l'arrivo del web Perché a quell'epoca Non c'era nemmeno il web Quindi Tu avevi la tua cerchia Di 15 amici Eri l'unico Che leggeva O forse un altro Tutto e tono Non leggeva nessuno Fiere non ci potrei andare Fumetterie non ce n'erano Quindi veramente Ti sentivi come per dire Ma Boh Solo io Sono il pazzo Sono io È arrivato il web Ho conosciuto Googlando E cercando Ho conosciuto Anime Click E lì ho scoperto Che c'erano tanti pazzi Cioè pazzi Tanti Polli come me Che leggivano Fumetti in giovanetta Sì veramente È salvato Cioè è salvato Però c'è comunque Evoluto ancora del tempo Prima di Abituarmi Cioè io ricordo Che avevo le librerie In casa Quando doveva passare Non so l'idraulico L'elettricista Chiudevi le porte Non fargli vedere Che si Non fargli vedere niente Che appunto Era un po' così E questo è quanto Tu Frankie Non sei stato bullizzato No Bullizzato no Perché forse poi Guarda Tra gli miei amici C'era qualcuno Che prima magari Leggeva Forse pure più di me Era il periodo Che andava Dragon Ball In eticola E magari là Quindi era vissuto Dragon Ball era mainstream Era così mainstream Che diciamo Il fumetto Ci si passava sopra Però in generale Io poi non è che Leggevo tanto Prendevo giusto Dragon Ball All'epoca Però insomma So che Generalmente Era così Che era Diciamo che erano visti Come Soprattutto a una certa età Magari finché eri bambino Sì ci stava Poi E' stato già detto Che Frankie Chi sarebbe Dio non ce l'ho presente È un attore Frankie Sembra Liv Schreiber Quello che ha fatto Quello che ha fatto Ah Slanzar dice Adesso invece l'idraulico Si fotte i volumoni Di Gigio E Mimot E li vende su ebay A proposito di questo Poi c'è anche Da dire che Slanzar mi fa venire Anche in mente Un'altra cosa Che quando Comunque qualcuno Si approccia Alla libreria O comunque al fatto Che leggo fumetti O che magari Parlando con una persona Cioè Vengono a sapere Magari non so Che hai fatto la live Che parli di fumetti Che sei stato a Lucca Eccetera Cioè Hai fatto una conferenza Cioè Capisci che dall'altra parte Vorrebbero anche loro Tornare a leggere fumetti O comunque Ad essere tra virgolette Giovani Spensierati Appassionati Perché comunque Tanta gente Insomma Ha abbandonato Le proprie passioni Che non devono essere Sontro fumetti Ma può essere Qualsiasi cosa Abbandonato Le proprie passioni Perché le ha giudicate Da adolescenti Sì Io una volta Sono andato a casa Di una persona Che aveva Le mensole strapiene Di modellismo agricolo Cioè So che può sembrare Una cosa strana Cioè I modellismo agricolo Cioè I piccoli trattori Trattori Camion Gru Tutte queste cose qui E quando io sono entrato Io la prima cosa ho detto Che figata Belli Dove li hai presi Dove arrivano Quanto costano Cioè lui c'era rimasto Talmente male Che una persona Non lo giudicasse Come un bambino Dall'asilo Perché collezionava Mezzi agricoli Che Cioè nel senso Non bisogna giudicare Lo hai reso felice Lo hai reso felice Cioè Non ci stiamo drogando Non ci stiamo Mi dissocio ovviamente Dalla droga Signore di Twitch Io no Io non mi dissocio No no Si dissocio anche lui Si dissocio anche lui Non stiamo facendo assolutamente Niente di magico Benvenuto Conzimo Benvenuto a Conzimo Comunque l'849 Grazie per il complimento Adesso ho capito chi è Provo di Ray Donovan E adesso ci devi fare Ti devi fare una palla Adesso cerchiamo un video Di Ray Donovan Per la prossima volta Se vi fai Uno spezzale Facciamo un video Se donate 10 euro Se donate Se donate Niente Cioè veramente Io vado nei canali Di vari influencer Ogni 3x2 donate Qui non dona mai nessuno Cioè volete lasciarci così Ma bene Comprano troppi manga loro Capito È colpa degli editori Andiamoci a incazzare Con gli editori Sbagliato Abbiamo sbagliato Non lasciate manchi i soldi Per donare Nelle chat altrui Grazie per esserti abbonato Grazie per esserti abbonato Grazie per aver regalato 3 abbonamenti Grazie per aver regalato 5 abbonamenti Grazie per la donazione Di 10 euro Qui invece facciamo live Di 1 ora e 30 centi Diamo se neanche un euro Ma Non siamo capaci Non siamo capaci Scherzo 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 Tanto anime click Gratuito Non ci pa Non arrivano a noi Calma con le dissociazioni Che qualcuno Si deve sniffare un fumetto Esatto Dovete far sniffare Il fumetto A Chris Però dovete donare Per farlo Io ho detto Un abbonamento Ho detto un abbonamento Come? Ho detto un abbonamento Io per Ah basta un abbonamento Dai abbonate Dove vedere se come ogni Sicolo social Ho un account fake Ma in questo caso Non c'ho l'account fake Per twitch Caccia Maledetto Non si fa così Niente Se non c'è Nient'altro da dire Non so se avete domande Varie Domande signori Cari Le domande Ma piuttosto Ecco una cosa Che a me è venuta in mente Ma avete notato Che anche Tra le edizioni Lisce Economiche In realtà Il prezzo Prendato Pochino alla volta Tipo i giganti I giganti Mi ricordo che Quando uscivano Costavano 3,50 euro Ora costano 5 euro Eh sì sì Quelli Piano Sono quelle cose Che piano piano Poglia alla volta Si sono messi a Bagarinare pure loro Passare del tempo C'è nel senso Sì sì Poi c'è pure L'inituzione Il primo numero di One Piece Aveso una cosa di 20 anni È normale che sia aumentato Era in lire Penso Quell'edizione No Era appena uscito l'euro Comunque Prende il numero uno Basta chiedere Ti basta chiedere Ragazzi Giù ti prende tutto Libro tutto Libreria Schiantarelli Anzi Biblioteca Schiantarelli Che edizione hai? Quella blu? No Penso sì Penso che abbia Quella blu Young No allora Era 2,58 5.000 lire 2,58 Proprio 5.000 lire? Era No È perché per un anno O due Tutti i prezzi In euro La corrispondenza In lire Per far abituare Le persone E costava Era luglio 2001 Quindi l'euro C'era l'euro Mi sembra che Gennaio 2001 Giusto? Gennaio 2001 Quindi 2,58 Costava 5.000 lire Adesso me lo apro Anche Era un pezzo Uno di One Piece Fu così che si distrusse In questo momento Cadono le pagine Qui ci dissociamo Dalle bestemmie No ma Non è una bestemmia In quelle perfette condizioni Sì Dice Art Menestrello Che lui è quello di luglio 2001 A 4,30 Perché Sarà una ristampa Sì forse La ristampa Su Collecting Manga La sottiletta di Dragon Ball A 3.300 lire Eh Grazie Ora mi sa che il prezzo Più basso Che puoi trovare Cioè 4,50 Meno di 4,50 Non credo 4,30 Volumi di Miro Academia The Seven Deadly Sins Ah Ok Star Comics Quella che comunque Tiene i prezzi più bassi Comunque la stamperia In casa Cioè Ci sono tante cose Anche da valutare Però Sicuramente Star Comics Da questo punto di vista Qui è quella Più vicina al lettore Nel senso che ti fa ancora Standard Che qua è un'edizione Normalissima Cioè nel senso Tranquilla Onesta Non è più La Pezzent Edition Con le pagine Che si scollavano Come le sottilette Io ormai sottiletta Ho soltanto Dragon Die Bene ho qualche volume Sparso qui E la Io Non verrà mai più Revisata però Ho solo perché Me le hanno regalate Le prime due Saghe Le prime due saghe Di Jojo Che non Non ho neanche Osato aprire Cioè le tengo lì No c'ho paura Che si spaccino Jojo Escici un artbook Che artbook volete Mi chiedete che artbook volete Lo faccio vedere Non di nuovo Quello di Slendunk Slendunk Quello di Naoki Urasawa Aspetta Mi faccio vedere Il pari di artbook Vedete qualche 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 flexino Flexino Franky Noi possiamo far vedere Qualcosa per competere Secondo te No io artbook Poi con Gigi Non si può competere Io artbook Io vi faccio vedere Se volete Potrei farvi vedere Un artbook Ma non è Non è Allora Diciamo che È anime style Ma non è proprio Di un anime Potrei farvelo vedere Però Vediamo se Compete con Gigi Non credo Che proprio Che competa Però ho una cosa Una cosa di un anime Che sicuramente Compete con Gigi Prendi Vai Prendi Prendi Chris Prendo Allora Questo è Water Di 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 Taki Quei Nue Ed è praticamente Un insieme Di tavole Disegnate Con Prendi E che fa Veramente Vedere Quanto sia Straordinario Disegnare Quest'autore Che Ci sono delle tavole Che sono pazzesche E' incentrato Su Vagabond In questo caso Quindi Non c'è Slam Dunk Vagabond Quindi Inoue Inoue Oh cioè Ci sono delle tavole Ripeto Tutte in acquarello Ma io vi flexo Questo Altro che Come cavolo Disegna Vuraghi E' bello Vabbè ragazzi Scusatemi Ma vogliamo Di che stiamo parlando Una sfida No Sfida Perché se Illustration Book Poi Insomma è un altro Molto bello E' questo Per chi dice Che Miura Non sa disegnare Madonna No No Allora No Non tiriamo Il socio Da chi dice Che Miura Non sa disegnare No più che altro Non è che Non è chi dice Che Miura Non sa disegnare Chi dice Che Obata È meglio di Miura Ma 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 Che gli dopo Sono gusti Però A livello Proprio Obiettivamente Allora Io penso Che obiettivamente Miura sia uno Dei tre migliori Mangaka In circolazione L'ho detto Beh All'inizio Era molto Embrionale Anche nel disegno È maturato Strada Facendo Croce Nessun Ma vabbè Ma È Di alcune Tavole Lui che Era Allievo Di Buronson Giusto Sì Soffre in silenzio Ragazzi No Io le frecciatine Le faccio Ragazzi Scusatemi Se non sono d'accordo Con quello che dice Una persona Lo dico Guardate qua Griffith Perché dovrei 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 Tenerlo Nascosto Griffith Il falco Bianco Franky Tira fuori L'artbook Dei teletapis Chi l'ha De casa Slanzar Allargami un po' Eh pure La prossima Slanzar Aspetta Solo layout Eccoti qua Murat L'amoroso Nel disegno Anche Murata È un grande Mi piacerebbe molto Avere qualcosa di AyaShild 2021 Per fare le città Anche qua Ce l'ho Ce l'ho L'artbook di AyaShild 2021 AyaShild Cosa vuol dire AyaShild È un meme È un meme AyaShild 2021 Ah ok Perché qualcuno L'ha chiamato così Sì Sì Ah quello Zelda Sì 88 Zelda fan Vedi Che in realtà Che in realtà Ha una gran bella collezione E legge anche roba Molto bella Però diciamo Che con le pronunce Non se la cava Molto bene Ma no Nel senso che L'ha tradotto Un po' E dopo ne ho altri Gli altri ve li faccio vedere La prossima settimana Soprò devo rimbustarli tutti E ci mettono Altmenestrello Veramente Cioè veramente Ha detto sta roba qua Cosa ha detto Ha detto che Cyber Nonno G È meglio di GTO Guarda io non lo Io Cyber Nonno G Non lo conosco Però Meno male Cospetto una lancia A favore di Luca Che è stato in live con noi E tra l'altro Vabbè Una persona che poi Di persona non conosco Però cioè Secondo me In alcuni casi Ha voluto crearsi Il personaggio E segue quello Perché non ci credo Non ci credo Che uno possa pensare Che Cyber Nonno G È meglio di GTO Cioè Mari Sì Se è una troll Sembra E disegni Se non è una trollata Clamorosa Cioè Il video si è buttato Su Youtube A riguardo Dicono È un po' È un po' Pollo Chi ci casca Queste cose qui Perché chiaramente No no Ma il video c'è Però come dice Gigi Forse è pure là Sì Il personaggio Che Se è vero Ragazzi Penso che Cyber Nonno G È un manga Che chiunque Si vergognerebbe Di aver scritto O disegnato Ragazzi Il La regola del web Ma non solo del web Prima era anche del commercio Di tutto Dalla pubblicità È che Bene o male Purché se ne parli Certo Sì Parlare anche male Di una persona Ma Ma che male Io non parlo Ma no Non stiamo parlando male Di Luca Diciamo che Ha detto una cosa Che secondo me È discutibile Ma molto discutibile Diciamo che Non siamo d'accordo Non siamo d'accordo Ma I gusti Sono gusti Però Non lo so Cyber Nonno G Era veramente Terro Ma io non lo conosco Ma ne hanno parlato Veramente Ma meno male Franky Un manga da uno Cioè manga da uno Per quanto mi riguarda Da uno Lo conosco Perché Fa così schifo Sapete che forse Adesso vado a cercarla Ma forse L'avevo anche recensito Su Anime Click Quando proprio ero Ragazzino Cyber Nonno G Sai che secondo me Allora Ma mangaka è innamorato Di Obata Per lui In realtà Mangaka pensa che Inoue Sia superiore a tutti Diamo a Cesare Quel che è di Cesare Il suo mangaka preferito A livello di disegno Inoue Che Ci può stare Come scelta Secondo me Ok il meme Però ragazzi Non dite C'è un mio commento C'è un mio commento Del 2012 In cui su scritto Che è demenziale Demenziale E non lascia nulla Non prenderò Il secondo volume Demenziale Non lascia nulla Non prenderò Il secondo volume Il momento Di nove anni fa E Non mi dissocio Me la penso ancora così Caustico Come pochi Non l'hai mai comprato Il secondo volume Non l'hai mai comprato Poi il secondo volume No Non so nemmeno Come fare a rimangare Un titolo del genere Cioè nel senso Io me l'ho proprio Completamente dimenticato E credo che anche Ovata Se ne sia dimenticato Cioè nel senso Ci sono quelle opere Che Boh Che non riesco Non riesco No Poi dopo sai Quando un autore Diventa famoso Saltano fuori Saltano fuori Tutte le opere Pregresse Anche quelle minime Anche Inoue Stessa È uscito Piercing Che da qualche parte Non so dove Ce l'hai Sì Piercing È un manga Di pochissime pagine Che praticamente È l'embrione Di Slendank Però Ragazzi Non ho proprio idea Di dove sia finito Eh vabbè Sarà dietro Qualche collector edition Ci sono cose Che devi rivendere Lo cerco per la prossima volta Ma Boh Sono quei classici manga Sono quei classici manga Che infili nelle librerie Perché fanno Fanno Tengono fermi tutti gli altri Sì Ero convinto fosse sopra là E invece non c'è Vabbè Cioè non c'è Non lo so Da qui non lo vedo L'hai venduto Non lo so mai Bene Domande Nessuna Anche Qualcuno Ce le stia chiedendo In portoghese Sì diciamo che Vi siete scatenati Dopo che hai nominato Luca Povero Luca No ma In realtà In realtà ripeto Noi Luca vogliamo anche bene L'abbiamo fatto qua pure in live Semplicemente Personalmente Penso che tutti e tre Concordiamo Questa cosa di Cyber nonno G Maglio di GTO È abbastanza discutibile Sì Diciamo così Discutibile Sì esatto Bravo Anche Slanzard Gli esordi di Urasawa Non erano proprio Il volume unico Che era uscito per Panini Non è che fosse un gran che Ma anche lo stesso Io sono un amante di Taniguchi Ma anche i primi Taniguchi Ragazzi Cioè Vi raccomando Cioè nel senso Alla fine Tentavano Tentavano un po' la sorte Non tutti i manga Come dicevo prima Embrionali Dove poi l'autore Prendeva spunto Per le Per le opere successive Già C'è un video In flexi Tutta la collezione Gigio Sì c'è Su Youtube C'è Me l'aveva chiesto Francesco Cosa Mi sembra che si chiama Francesco Di Otaku Inside Come si chiama Non è Francesco Credo di sì No non è Francesco Francesco Sì Francesco Francesco di Otaku Inside Quindi se vai sul canale YouTube Di Otaku Inside C'è la mia collezione La cerchi Videocollezione Dovresti trovarlo Ti chiedono La tua opera preferita di Urasawa 20 Centauri Voice Anche la mia Anche E là se esce una Se esce una ridizione Non faccio caso al prezzo Tra l'altro poi è un video Della collezione Dove Avevo venduto un po' di Cosucce Perché volevo prendere Le nuove edizioni Per esempio Non trovi nessun Nessun titolo di Tezuka Per esempio Perché appunto avevo fatto Otaku Inside ZAM Teniamo un po' Se ci è in giro Chiedono Ristampio Deluxe Di Galaxy Express 999 Sarebbe bello Ciao Calemdar Calemdar ZAM Qui era la collezione E tra l'altro È stato il mio primo video Su YouTube È l'unico Non ho mai fatto video Su YouTube Quindi Ci sono delle pronunce Sbagliate Perché ho fatto anche Non sono uno Che taglia i cuci Ho fatto Un'ora e un quarto Di video Senza Senza fiatare Senza Stato anche In posizione Che ho dovuto Sacrificare Elena Mia moglie Le ho detto Dove fare un video Ma quanto dura? Ma no 5 minuti 10 minuti Un'ora e mezza Un'ora e mezza Sì vedete Ogni tanto Ogni tanto Vedo che calava Col telefonino Ogni tanto Vedo che calava Gli facevano male Gli facevano male I tre cibi Di pora Starsi dritta così Ragazzi Quietatevi Comunque sulla discussione Oglata contro Mu Dai Alla Fin fine È una discussione Che lascia il tempo Che trova Non trovo neanche utile Parlarne onestamente Su che Su No Allora Diciamo Dal punto di vista Dei disegni E anche Dopo Vabbè Death Note A me Death Note È piaciuto Cioè Poco da fare A me Death Note È Tutto gli puoi dire Di Death Note Tranne che non piace Si è prolungato Troppo Purtroppo Ha avuto Anche lui Sì Cala nella seconda parte Sicuramente Quel grosso problema Che poi Dopo È diventato inflazionato Per cui Quando un manga Poi diventa inflazionato C'è un sacco di gente Che spande merda E quindi Viene giudicato Cioè Tanti manga Come Dragon Ball Come One Piece Come Naruto Come Death Note Stesso Ha tanti amanti E tanti hater Alla stessa maniera Però Death Note È strepitoso Cioè È un manga Geniale Sensazionale Un pathos Incredibile E veramente L'ho letto due volte Tutte e due le volte Mi è piaciuto Sul discorso I disegni Però purtroppo Secondo me Non è È un discorso Veramente Cioè È oggettiva La cosa Cioè nel senso Che ci si può impegnare Io Non sono Non sono un grande intenditore Di disegni Parlo per quello che Mi arriva dai disegni E l'espressività di Miura Così come Il tratto Così come Sa riempire Sa riempire Proprio le tavole Parliamo comunque Di un manga In ambiente Medievale Con cavalli Con eserciti Con spade Con corazze Ma anche il suo modo Maniristico Di mettere in atto Le tavole Nel senso Sì In partenza Parliamo comunque Di un'opera È molto inquadrato All'inizio Dai siamo onesti All'inizio Anche Gazzu Ha un po' Questo tratto Piuttosto Siamo Squadrato Però Guardatevi Fondani Guardatevi Quello C'è Piano di dettagli Piano di dettagli Death Note Sì È disegnato Bene Ma non è A quei livelli Dai Secondo me Capisco i gusti Ma un minimo C'è Certe cose Sembrano proprio Oggettive Secondo me Ma anche Pensate a Zotta Il cavaliere del teschio C'è 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 Veramente L'universo Di disegni In quel manga C'è Dopo Per carità Non è Miura Non è il miglior Disegnatore in assoluto Abbiamo detto Inoue Per esempio Inoue Se non è È superiore C'è nel senso Anche da questo punto di vista Qui Sì Ci può stare Sia abbastanza oggettiva Come cosa Soprattutto in Vagabond Dopo Però Credo che Dopo Inoue Si possa tranquillamente Ci si possa comunque schierare Per esempio È veramente bravissimo È Kaoru Mori Altra disegnatrice Che secondo me Veramente strepitosa I giorni della sposa Sì È bellissimo Certo Disegni veramente Fantastici Però Ecco A parte quello Boh Nel senso Dopo Ripeto Non è Non sto dicendo Che Obata Disegni male Cioè sto dicendo No ma Obata Non disegna male Però è Disegna il compronto Ecco Devi fare il compronto Che poi è una polemica Che non so perché è stata fuori Sta polemica Perché è stata fuori Sta cosa qui Sì è uscita La storia di Mangaka Mi dissocio Mi dissocio Nel dubbio ci dissociamo No comunque Io sono abbastanza d'accordo Soprattutto Sini Sini Sakamoto Un altro Un altro grandissimo Disegnatore Ma diciamo che Ce ne sono Cioè ce ne sono Veramente tanti Di autori Ma anche Oshimi stesso Per esempio È un ottimo disegnatore Samura Cioè ce ne sono Ce ne sono Veramente tantissimi Per cui Ognuno poi Trova il proprio gusto Anche Asano Per esempio A me non dispiace Asano Asano è Però vedi Asano È Secondo me È quella Corretta via di mezzo Tra Quello che potremmo definire Il Riempimento Dei dettagli Alla minura È il disegno Quello Un po' più pulito Tipico Quell'anime style Manga style Moderno Che piace tanto Ai ragazzi Perché Asano Sì Asano è pulito Asano non è Così Manieristico Però è vero E appunto Mette un sacco Di dettagli Un sacco Di espressioni E è talmente Tanto bravo Talmente tanto vero Nel restituire Queste sfere Che anche se appunto Più tendente Allo stile Un po' più moderno È molto espressivo Infatti per me Asano Asano molto meglio Riobata Da sto punto di vista Sì Dopo ripeto Va un po' Agus Per esempio So che in tanti Vanno matti Per Pozuka De Mizu Per esempio C'è nel senso Ce ne sono Grandi appassionati Che è uscito Anche lì L'artbook Altro Altra Alcuni Alcuni autori Non li puoi paragonare Per i tempi Che corrono Cioè nel senso Io credo che Oggi Un Kamimura Sarebbe sicuramente Delete Con le tecniche Di disegno Di oggi Cioè ci sono Anche del passato Ma anche Tezuka Non disegnava Se fatto male Con le tecniche Di allora Aspetta Dice Marco 0592 A proposito Di fumetti Che costano Posoko Ha appena detto Che Tower of God Costerà 8,90 E solo leveling 12,90 Però qui Se non sbaglio Anche formate Pagine Può essere Molto Ampie Poi comunque Qui Io un pochino Lo comprendo Perché alla fine È un tastare Cioè Non so quanto Venderanno Cioè non so quanto La gente si avvicinerà A questi titoli Un po' come quando Fu proposto Fu un nuovo Proposti All'epoca I Boys Love Eccetera Eccetera Nel senso Parte da una nicchia Di Di lettori Per cui Star Comics Ci può anche stare Che Cominci Sondando il terreno Tenendo il prezzo Un pochino più alto E poi già Poi se non sbaglio È a colori Sì sì È a colori È a colori Quindi magari C'è nel senso La pesa Infatto Il tuo disegnatore preferito Invece Che Che non ce l'hai mica detto Il tuo disegnatore preferito Io? Sì Il mio Sì penso In assoluto Credo I nove Sì I nove Non sarà che sto leggendo Slender anche adesso Ma Sembra Quando vedo il sudore Dei Degli atleti Che corrona Sì Belli scultori Mi affatico pure io A vederli Quindi Ci sta Mi affatico pure io A vederli È una bella metafora C'ha un'anatomia Dei corpi Stupenda È il pedicista del sudore Il pedicista del sudore Sì No dai Naruto full color Dice sono 7 euro Ricordo Quindi È Però là Devi Devi considerare una cosa Esce con la gazzetta Ed è comunque Naruto È Opera mainstream Come Sì È mainstream C'è come Dragon Ball full color Cioè il prezzo di Dragon Ball full color Era quello Perché era Dragon Ball E quindi loro Perché sai che vende tantissimo Bravo Perché tu sai che No vai vai Di tu No no sì sì Quello che stai dicendo tu Chris Vai Tu sai che Dragon Ball e Naruto Ti garantiscono totte copie E ci puoi guadagnare Pure di meno Sul singolo volume Su Tower of God È tutto da Tutto da vedere Perché Sì ma Tower of God Sono comunque più pagine Dice Tower of God Sono comunque più pagine Un D Scusa No dico Non lo so se sono più pagine Sì lui Lo dicono in chat Lo dicono in chat Ma ha maggior ragione Allora se sono più pagine Giustificato un prezzo più alto Scusami Sì 8 euro e 90 Forse certo 12 e 90 Per solo leveling Già cominciamo A salire un po' Cosa 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 Non lo conosco Mi proverete Assolutamente sì Io Tower of God Sì L'altro Non lo so Non credo Posso dirti che secondo me Solo leveling è molto più bello Di Tower of God Ah ok Io perché Di Tower of God Ho visto l'anime Quindi solo leveling Invece no Io sono estremamente incuriosito Ma veramente tanto incuriosito Ma è forse uno di quelle opere Che preferisco testare con mano prima Cioè non le prendo a scatola chiusa Voglio prima sfogliare Io purtroppo ripeto Non ho una fumetteria sotto casa Quindi non posso sfogliare Sfogliare Non puoi andare fisicamente In una fumetteria a sfogliare Eh no Io compro sempre veramente a scatola chiusa In base all'esperienza Ai gusti Agli autori Alle recensioni Eccetera eccetera Però Questo Voglio prima Prenderlo in mano E sfogliarlo Ecco Per capire se Se mi Guarda se vuoi Quando lo prendo Ti mando anche qualche foto No no Devo proprio tenerlo in mano Devo proprio Devo sfogliarlo Per capire Se mi trovo Due passi da Milano Vai Vai in giro a Milano E due passi da Milano Sì Vieni a trovare a Milano Vieni a trovare a Milano Cristiano Prendi picottero e vai Dai Due passi Sì Oppure cavalca una mucca Che ti devo dire Non lo so Tanto è uguale Tanta è discesa Dai Tutto in discesa Dalle montagne Il fiume Il fiume va verso Milano Quindi se l'acqua va in giù Vuol dire che disce Ecco Dai scherzo Ovviamente Tutto è una burla Niente Abbiamo fatto Due ore Ci abbiamo fatto Oggi Nonostante l'inizio Con la sigla Conclusiva Lo puoi sfogliare La prossima lucca La prossima lucca Sarà lucca 2021 Ho questa sensazione Allora no Aspetta Lucca nel 2021 Ci sarà C'è nel senso Che anche quest'anno C'è stata lucca Non era lucca comics però Eh sì Bisogna capire esattamente come Anche perché comunque Dietro lucca Non è come Dietro la fiera Del paese Guarda Sono decine e decine Di persone Che Campano Da lucca crea Per quanto Questo lo dico Per quanto i lucchesi Pensino di campare Di turismo In realtà È la fiera Che muove la macchina Economica lucchese Siamo onesti Purtroppo Lucca non campa Di turismo Economia lucchese Attenzione Aspetta Dici Dici Ma secondo me Cosa Cosa No Pensavo Pensavo avessi visto Il bilancio Non ho visto Nessun bilancio Ma semplicemente Per Semplicemente A livello logico Lucca è una città Antica Che basa Molta della sua economia Su turismo Su industria della carta E ovviamente Sulla Sul lucca comics Sicuramente Fra le tre Quello che muove Una macchina economica Gargantuesca È il lucca comics Vai a togliere Lucca comics Togli una grande Fetta di introita La fiera Di conseguenza Gargantuesco Gargantuesco Segnatevi questo termine Usatelo Quando potete Nella vita Faccio smr Del gargantuesco No Ho capito Ho capito Quello che dici Ho capito Quello che dici Sì Premente È una grande Fetta Dell'economia Di lucca Perché alla fine Il turismo È una classica Città della toscana E più nemmeno Quindi C'è il turismo Fuori da lucca comics Dopo lucca Lucca Il turismo Comunque Sì Comunque va Però devi considerare Questa cosa In questo particolare Frangente Manco il turismo C'è Manco il turismo C'è in questo Particolare momento Credo No No Chiaro Chiaro Bisogna Bisogna Vedere Cosa Intendono Fare Perché comunque Considerate che In piena Pandemia È veramente Mancato pochissimo Che ci fosse Cioè nel senso Luca ha una spinta Anche dalla regione Toscana Che è veramente Fortissima Ha una spinta Quindi anche Se spinge la regione Vuol dire che spinge Addirittura anche il governo Per cui Se ci saranno Le condizioni La faranno Secondo me Spinge Spinge Per farla Sicuramente Per farla Magari Limiteranno I biglietti Limiteranno Le entrate Contingeranno Un po' Tutto Faranno Percorsi Obbligatori All'interno Dei padiglioni Insomma Sistemi Ce ne sono Poi Già Chiaro È a rischio E pericolo Io ricordo Che quando si parlava Di Luca Anche in redazione Quest'estate Tanti di noi Dicevano No Io anche se si dovesse Fare Non la faccio Perché non me la sento Mario può un parente Anziano a casa Non voglio Non voglio portare a casa Covid Perché è stata La fila Io ero tra quelli Sì Io pure Tutti i ragionamenti Che ognuno fa Il proprio Stai tirando Delle botte di lag Allucinanti Gigi Adesso sei ripreso Dai Ora sembra Esserti ripreso Sei informissima Bene ragazzi Dai che abbiamo Rotto le valle Abbastanza Per oggi La nostra chat Vi ricordo Tanto poi Non lo fate Io ve lo ricordo Ma tanto poi Non lo fate Che potete donare Che potete donare Quanto volete Con il tastino Donazione Oppure abbonarvi Al nostro canale Subscribe È gratuito Se avete un account Di Amazon Prime Video A noi la donazione Arriva comunque Anche se voi Non pagate nulla Per cui Fatelo Fatelo Mi spiace Datelo a noi Non a Giustinè No mi dissocio Mi dissocio Niente Sì mi dissocio Programmi Aspetta Programmi della settimana Aspetta che arrivo Ok Programmi della settimana Posso aggiungere poi Anche una cosa di Youtube Intrattieni No cosa Cosa vuoi Che cosa esce su Youtube Esce un video su Youtube Questa settimana Ah ok Sì Vai vai Allora Questa settimana Venerdì in particolare Nello specifico Esce la top 5 Degli anime del 2020 Ma non la mia La top 5 Dell'utenza di anime click Perché Questo per ricordarvelo Se andate nella home di anime click Sezione anime E ricerca avanzata Potete controllare effettivamente Quali sono i migliori anime Di ogni anno Di ogni season In questo caso E vi spoilerate il video Se vi spoilerate il video Se vi spoilerate Sì Per niente ve lo spoilerate In questo modo Quindi non guardatelo Non guardate quel video Fa schifo Ci sono solo io che parlo E flexo il microfono nuovo Ma comunque Devo dire che Allora Appuntamenti Domani mattina Ore 11 Con ironic Colazione Nerd Si parlerà un po' di tutto Poi domenica Come al solito Recap of the week Ore 15 Non so se c'è qualcos'altro In mezzo Cristiano La live di Gamer Click Sabato Captain Tsubasa Con giveaway Esatto Quindi partecipate Per vincere anche Succosi premi E cotillon Come? Ricchi premi e cotillon Esatto Quella roba lì Vi salutiamo Buona serata Mi raccomando Comprate i manga Che se costano tanto E ci sentiamo Prossimamente Qui su Su canale Twitch Di Anime Click Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Buona serata Buona serata Ciao Vedete che devo mangiare la sigla Ce la faccio Quella vera Mi voglio bene Sinaltar Ciao